Musica 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 Se puoi evitare di parlare Allora ci dobbiamo mettere meglio Tu devi stare un po' più in là Perché c'hai un sacco di spazio Benvenuti, benvenuti salottino Come vedete Allora puntata speciale lunedì Perché non sapevamo che cosa fare Tanto martedì non l'avremmo fatto Perché Perché non ci sono né io né Umberto Esatto Dov'è che vai tu? Non si può dire proprio Proprio neanche per finta Viviamo di embargo questo poi è di una violenza inutile completamente inutile voi non vi preoccupate tanto stasera si saprà completamente inutile ma c'è un embargo che non ha senso cioè del tipo hai firmato che ti tolgono un rene non dovrei neanche dire che parto infatti già stiamo facendo dei casi ok evitiamo vi dico l'embargo ragazzi non sto andando a vedere dell'astofaz seguendo la linea comica che stiamo portando avanti ormai dalla puntata precedente altre persone disturbate ci sono venute a trovare oggi tra i più gravi altri disadattatini sono venuti sono in trenta abbiamo anche il pubblico di studio farai applausi quando facciamo le battute quando facciamo le super battute gente veramente presentali allora Alessio e Francesco che vengono da Sora esattamente che non esiste in realtà Sora che non è Kingdom Hearts Sora che è se non ricordo il mare c'è il mare c'è la montagna io sono stato a Itri che tu conoscerei benissimo tu non conosci nessun posto di fuori di Vignola ho passato l'infanzia a Itri vabbè io sono stato a Itri però Sora è più bella di Itri effettivamente è molto più bella di Itri tu poi la confondevo ma poi mi raccontavi che cosa c'erano delle cascate dove era? sì perché c'è un paesino vicino a Sora l'isola dell'Iri è l'unico paese in tutta Europa che c'ha la cascata all'interno del centro abitato vedi? figo figo la sapevi sta roba? perché non mi porti lì e si mangia bene? e chi ci vuole andare da solo? beh sicura parte la zona là viviamo per il cibo allora possiamo subito dire che non abbiamo un rapporto di parentena nonostante la capigliatura perché altrimenti inizia barba, capigliatura siete fratelli, siete cugine non è un raccomandato è venuto a cui vi ho scelto accompagnare la tua sorella esattamente perfetto tutti e due i nostri fan tutti e due disadattatini gravissimi molto disturbati ricordiamolo quindi non vi stupite ragazzi prima di entrare nel dettaglio ah no, voglio sapere una cosa la puntata precedente io sono stato spesso senza gli auricolari con Moioli collegato ho visto nei commenti a youtube che tutti si infastidiscono no, si sono infastidi non per i miei auricolari sì, perché neanche ascolti nei confronti di Moioli che pare essere stato violentissimo nei confronti dei ragazzi dell'ospite sì, sì, confermo ma che cosa ha detto? va bene, lo stile di Umberto le nostri fanatatini non concepiscono l'ironia no, ma quello ma non me ne frega niente ma benvenga cioè io vorrei 140.000 persone che ci vengono a dire merde, fate schifo e invece non arrivano in 140.000 no, confermo assolutamente sono solo 3 o 4 psicopatici confermo che credono che il mondo che il mondo sia pieno di unicorni che vomitano arcobaleni in giro per il mondo e tutti si vogliono bene e non si sa bene perché confermo però invece ne voglio dire un po' di informazioni degne di nota perché non c'è Umberto questa settimana? perché come dicevo nella storia Umberto sta a Tokyo è partito ieri ha avuto un viaggio dell'inferno che ci puoi anticipare o dopo proviamo a chiamarlo e ce lo facciamo raccontare non so tu ti puoi chiamarlo per sentire a che punto sta quello che vi posso raccontare è che lui aveva l'aereo perché non è ancora arrivato lui aveva il diretto ieri di Alitalia alle 13.15 quello famoso su cui avevamo detto la gente è andato in aeroporto a salutarlo ti ricordi? sì 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 scusami ho un problema immagino 13.15 tipo ti sei scaricato il cellulare sai che potrei aspettare le telefonate da un momento ok facciamo finta di sì allora alle 13.15 aveva l'aereo da Milano Malpensa che era un diretto quindi un diretto all'Italia comodissimo fatto sta che gliel'hanno ritardato di solo 7 ore quindi è partita alle 20 e passate quindi appena 7 ore di ritardo ma non finisce lì perché una volta arrivato a Tokyo ci sono una serie di tifoni in atto a Tokyo periodo dei tifoni non ho capito ci sono decine di tifoni in atto per cui ha fatto altre 2 ore in volo di ritardo e oggi non ci sono i treni tutti i treni che portano dall'aeroporto a Tokyo sono tutti disattivati per colpa del tifone e quindi praticamente è lì in dogana da non so quante ore tipo da 3-4 ore non sa come riuscirà ad arrivare al suo albergo perché a quanto pare gli hanno detto che i taxi hanno una fila di 200-250 persone Uber si prende non mi ricordo se mi ha detto 3 o 500 euro per andare fino a Tokyo come in Italia ha impennata clavorosa tipo 300-500 euro il mercato io credo nel mercato è una cosa bella e sta pensando seriamente di prendere la bicicletta quindi se qualcuno di voi di Sadatatino sta vivendo a Tokyo e vuole passare a prendere Umberto a Narita all'aeroporto di Narita sarà ricompensato 200-250 euro meno di Uber meno di Uber qualcuno mi fa la simulazione di quanto ci vuole dall'aeroporto ha detto sono 62 chilometri quindi in bicicletta ci metterebbe 3-4 ore beh vai a 15 chilometri a parte te vai a 15 chilometri l'ora io vado a 6 in bicicletta 3 correndo e 1 e mezzo e mi sposto in slow motion è pianeggiante comunque e non sappiamo perché il tifone sia causato non credo della tifoseria però scusa tu ti immagini i moioli in bicicletta con un keyway in mezzo a un tifone che pedala per raggiungere non è che in quel punto lì c'è il tifone è un po' per misura di sicurezza si hanno spento i treni per colpa del tifone hanno spento i treni accendete i treni come li dici li hanno disattivati come gli hanno disattivati come gli hanno disattivati dammi la pizza prima di dare la pizza voglio approfittarne per ringraziare Red 22 per il terzo mese di seguito di iscrizione vabbè Colocasta che ci segue Westclaw grande Westclaw per il secondo mese di seguito e grande Lex of Dave per il sesto mese ma non di seguito e ne approfitto anche per ringraziare se riuscite a mettere i bitly per sempre cioè quelli tutti i tempi e Giuppi 6.000 bitly ha dato seguito da Hill Mulo che non so chi sia che ne ha dati 4.000 vorrei raccontare per quelli a casa e ovviamente per quelli in studio che non hanno idea di che cosa tu stia parlando è che la gente la gente è così matta che spende del denaro per seguirci ci da degli oboli soppressi si dice è vero ci da degli oboli per continuare a fare questa cosa è bello che a noi dei soldi non ce ne frega assolutamente niente stiamo ammucchiando questi tesoretti neanche abbiamo messo dove riscattarli non sappiamo neanche come trasferirli ce la dobbiamo ancora studiare ma un giorno faremo una pizzata con la pizza vera con tutti i disalantati oltre a comprarci la Lamborghini subito dopo la Lamborghini forse neanche riusciamo a dare la prima rata ma non quella di accensione la prima rata il biglietto di entrata alla showroom esattamente allora oggi quindi purtroppo ragazzi ancora non cucino non faccio ricetta ho già la ricetta pronta però già questa settimana ce l'avevo ma non mandava di farla dovevo portare il mini pimer la chinois eccetera eccetera lo chinois lo chinois e lo farò settimana prossima cos'è lo chinois ma l'avevi detto non è la sacca poche non c'entra un cazzo è quella specie di come se fosse una grattugia ma non è una grattugia sbasata fatta a cono sì che però a cono che ha quattro facce con dei tagli diversi no è tutta omogenea ma è proprio un cono immagini di un cono cioè quindi quindi con bucherellato però non serve per grattare serve per passare lo usate voi lo chinois? no assolutamente serve per passare non so come si chiama in italiano ma non esiste 100% penso si scriva chi noi scusate perché lui ha studiato ha studiato cucina allora oggi facciamo in borgogna e ovviamente non conosce i termini italiani non so come si chiama in italiano lo capisco lo capisco non so come si chiama in italiano aprimela dammela sai cos'è invece il mini pimer quello che è immersione tiramela fuori allora devo aprire non è complesso però è complesso devo rompere la scatola invece mi serviva per spiegarla dopo devi raccontare la storia di amazon per cui hai fatto la storia allora questa è alessio dovrei comprare sempre l'idol sì questo è penso che sia uno dei marchi l'idol perché non è non è l non è xl è xxl ma uno dei marchi poi tra l'altro guarda xxl questo è chiaramente perdonate no scusa me la dai una perdonate me ne passa una perdonate ovviamente ci sono degli ospiti attappatevi le orecchie che queste sapete sono live molto scurrili ovviamente xxl è basata sulle dimensioni del pene di alessio perché questa deve essere xxl c'è un problema di dimensioni anche io vado in giro a dire che ce l'ho xxl esatto allora esattamente allora trattoria alfredo è una marca probabilmente scusa sarà per il 4x l'xxl secondo te o no perché di solito perché di solito l'xxl del lidl c'è una scatola ma posso continuare è ufficialmente uno dei marchi l'idol perché è brandizzata l'idol xxl di solito è più sulla quantità più sulla quantità l'idol beh però è chiaramente un'informazione sbagliata perché è extra extra large la quantità c'è un problema benvenuto nel mondo nel fantastico mondo del marketing ok allora trattoria alfredo come vedete è il marchio e il grande alfredo la pizza si chiama deliziosa margherita ed è stone baked non l'hanno messo neanche in italiano è sifiato quindi cotta a pietra quindi non ha legno come siamo abituati esatto questa è pietra è vegetariana come fai se è vegetariana se c'è una mozzarella scusami perché è vegetariana non è vegana è vegana infatti allora la mozzarella ha giusta ragione ti chiedo perdono scusami allora dietro leggerò le istruzioni diciamo che la lingua italiana è l'ultima cioè spagnolo polacco olandese nlbe olandese no nlbe e poi c'è frbe che sarà franco belga quindi sarà olandese e belga franco belga tedesco e poi italiano e l'italiano dice pizza farcita con salsa al pomodoro mozzarella e formaggio edam pronta per essere infornata uno prodotto sul gelato quindi non c'è mozzarella si l'hai detto mozzarella e formaggio edam allora ingredienti farina di frumento 32,2% pomodoro a pezzetti 13,4% di formaggio di cui 6,7% asterisco non so perché mozzarella richiamerà qualcosa si è nello scomparto del ghiaccio o nel sul gelatore meno 6 gradi questo dice l'asterisco non so che significa latte pastorizzato sale da cucina fermenti lattici e caglio microbico 6,7% formaggio edam anche in questo caso latte pastorizzato sale da cucina caglio microbico e fermenti lattici acqua olio di colza sale da cucina lievito di panetteria zucchero latte intero in polvere pasta acido di frumento essiccata 0,5% di origano 0,4% di basilico è la prima che troviamo col basilico estratto di malto d'orzo siero di latte dolce in polvere cipolla in polvere aglio granulare pepe nero farina di cereali maltata e tostata frumento e orzo ah no la mozzarella è riferita al prodotto finito può contenere tracce di soia uovo sedano senape semi di sesamo e basta e poi premi gambe cioè allora già la premessa è la peggiore di tutte perché sapete c'è una regola base fondamentalmente tutta la roba di cucina più la lista ingredienti è corta più vuol dire che sono fatte bene in questo caso c'è una lista di ingredienti che sembrano gli antibiotici che prende Alessio praticamente e quindi farà abbastanza cagare e l'hai pagata perché vi ho detto è per te il rapporto qualità prezzo è importante eppure questo lo dici tempo e non porti lo scontrino è ridicolo purtroppo l'ho messo nella borsa che ho lasciato in macchina comunque sono 4 pizze probabilmente a 1 euro 0,99 fateci sapere andate a controllare sarà 0,99 no no questo costava 1,99 non l'ho guardato 4 pizze comunque fateci vedere fatecelo sapere allora approfitto per ringraziare Momoka grandissima Momoka per l'iscrizione al secondo mese a Mangiechi Mangiechi U Eterno per l'iscrizione e a Rotator Ale anche lui per l'iscrizione al secondo mese non ci sono Bitly perché mi sa che non c'è Giupi TV allora faccio un po' di chat piccolo aggiornamento da Umberto Moioli cui ho chiesto se fosse disponibile per una telefonata dal Giappone no Ale sono appena salito sul treno dopo ore e ore di attesa quindi non sta andando in bicicletta ancora non sembra voler partire ma almeno sono dentro però non posso fare il circo è incredibile questa roba qua da notare come il salottino è il circo confermiamo c'è ancora di lei devo rimettere quel setup per poter sistemare il microfono prima o poi riuscirò a trovare come fare Alessio intrattieni un attimo i nostri chi ci sta seguendo e voglio provare a sistemare questa cosa del delay ok allora intanto vedo che ha utilizzato una grafica che secondo me è completamente sbagliata per il genere ho utilizzato la tua grafica si ma devi usare quella tutto schermo tutto schermo non ci sono altre cose perché abbiamo un pezzo rocchio è la tua grafica la mia però è declinata in vari setup in vari layout tu hai utilizzato quello sbagliato allora molto semplicemente di che cosa possiamo parlare in particolare io ho due due novità uno che sono molto contento del per quanto non mi freghi niente dello sport e odi il tifo mi è piaciuto molto il gran premio di ieri che non so se hai visto però devo dire a me ripeto sei stato contento è arrivato prima no esatto siccome io non sono un tifoso però seguo lo sport sei proprio di quelli ignoranti cioè che non sei tifoso però esulti solo quando vince non esulto perché non ho esultato siccome siccome mi piacciono quello che fa più schifo mi piace la competizione mi piacciono gli underdog che vincono e compagnia bella siccome sono mi piace Hamilton e le crer che avevo già detto in tempi non sospetti che potenzialmente erano predestinato il risultato è stato spettacolare questo per quanto riguarda lo sport invece ho visto ho visto the naked director si regista nudo su Netflix su Netflix proprio l'ho visto hai fatto l'abbonamento solo per vederlo si per fortuna c'è quel mese gratuito che mi ha permesso l'hanno rimesso in Italia non ne ho la più pallida idea non ne ho la più pallida idea quindi possiamo confermare adesso io ne sei l'ho visto il giustaluto pirata non lo metterei proprio non bloccherei le rotative e farei partire i giornali semplicemente ho visto ho avuto la possibilità di vederlo presso su Netflix a casa di un amico che aveva Netflix ah ok non mi hai prestato tu non ti ho prestato il mio account strano ero convinto no 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 infatti l'interfaccia non mi sembrava proprio quella quindi otto puntate in un pomeriggio assolutamente si spute in non ho ancora visto Bangalion però no non lo guarderò mai perché ti ho detto per me ho iniziato a vedere attaccontare per me il culmine di un percorso è esso stesso il percorso al contrario di quello che dicono il viaggio il viaggiare non so che significhi però va bene esatto per me è importante come vanno a finire le cose The Naked Director al contrario di quello che mi aspettavo per me era un capolavoro invece non posso non vederlo no assolutamente godibilissimo godibilissimo ma ma voi l'avete visto per caso The Naked Director no lo sapete parla di quel regista parla di uno dei registi porno che hanno rivoluzionato appunto il porno in Giappone e ha partecipato in questo periodo proprio di cambio dei costumi ma perché che noia di che cosa vuoi parlare legge i commenti legge i commenti parla di questo di questo periodo nel Giappone dove loro facevano i film porno ma si coprivano le parti intime non solo le pixelavano ma proprio non c'era contatto fra le parti intime che venivano ricoperte con del del nastro adesivo color carne e c'è questo passaggio che viene raccontato proprio di questa rivoluzione dei costumi dove compare una che è l'attrice feticcia di questo Naked Director e questo direttore di questo regista in Italia in italiano però non si può parlare così faccio come quando parlo io e ci siete di fianco ma io non lo faccio mai io non lo faccio mai non lo faccio mai beh comunque bellissimo per il tema ottima la realizzazione tecnica secondo me e tu lo odierai per questo ne sono convinto stai parlando con me adesso? ah le giapponesate le giapponesate ah ma quali giapponesate? quelle quelle in trama? quelle che si guardano fermi non si guardano non si guardano non si guardano non si guardano o tipo quelli che fanno pocotto pocotto poi piangono no signor direttore non volevo che accadesse è recitato? è recitato? è un documentario con le scene non è un documentario è fiction si fiction però parla di una storia vera no parla si ispira vagamente a questo personaggio sono andato a vedere su wikipedia la storia di super cringe oppure non voglio essere volgare ma lo sarò cioè ci sono proprio delle parti ridicole in cui c'è lei la sua attrice feticcio che si sta masturbando con mi pare quattro dita e il direttore gli dice no non lo devi fare solo con tre dita altrimenti rischi robe del genere cioè capisci delle situazioni molto molto imbarazzanti ma io quello che odio di quella cosa giapponesa non è soltanto il super cringe sono anche quella il pathos sono negli anime che rimangono fermi a guardarsi 30 secondi che nessuno sulla realtà ovviamente siccome è live action questo non è così spinto come negli anime ma c'è c'è sottende tutto dappertutto ci sono sempre c'è questo leitmotiv tu io sono convinto lo dovresti guardare lo vedrò ce l'ho già segnato bello ma sarà drammatico loro si stanno pentendo clamorosamente di essere venute mi dispiace un sacco però questo è il livello ve lo siete scelto ci dicono tutti che ieri c'era a Monza c'era anche Lapo Lapo Elkan quindi se vi siete sentiti assolutamente hai commentato con lui assolutamente io e Lapo siamo fratelli di lui però non lo sa diciamo non fai lo stesso fratelli di Lecce oggi c'è la fiducia facciamo domande politiche è importante prima che racconti io cosa ho fatto ieri Zdexdeghzd dice oggi c'è la fiducia possiamo aspettarci stravolgimenti e drama a non finire fiducia del governo assolutamente è arrivata per sì una notifica sul computer non so Windows 10 mi ha mandato Conte parla alla camera mi è arrivata la notifica di Windows mi è arrivato e volevo disinstallarlo purtroppo non ho fatto il tempo a disinstallarlo no non ci saranno sorprese perché ragazzi almeno per quanto riguarda gli accordi hanno maggioranza assoluta sia Camera che Senato cioè dovrebbe essere proprio una passeggiata di salute che cosa aspettarsi dal futuro no cosa aspettarsi da questo governo un po' di sano immobilismo made in Italy quello vero quel catenaccio calcistico di cui ci ha abituato la nazionale per millenni secondo me avremo la manovra finanziaria il giorno della scadenza della manovra finanziaria com'è non ci do aspettarsi però non se ne parlerà per nulla fino al giorno no se ne parlerà è l'argomento io credo che il 9 settembre 2020 faremo un riepilogo dell'anno di governo se sarà arrivato facciamo finta che sia arrivato l'anno di governo e secondo me sarà nulla 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 secondo me nulla in un anno mi chiedo mi chiedo se le nostre ospiti siano impuriosite dal fatto che passiamo così dalla masturbazione a quattro dita alla alla come sarà il governo entro un anno cioè vi assicuro ragazzi che non è facile fare il salottino con il pubblico confermo allora ma una margherita da me sta a 4-5 euro ci dice Mito Davider che quindi sarà nel napoletano nel meridione perché nel mondo civilizzato i prezzi sono ci sono un paio di posti anche a Roma che arrivano a 5 e mezzo 6 e 6 e mezzo quanto costano le pizze suggerate abbiamo fatto un bel range l'ultima costata mi pare 1,49 erano 3 pizze sì mi sembrava no cioè era 1,49 a pizza era 1,29 a pizza 1,29 a pizza ah ok quindi sono però 1 in regalo quindi erano 2,50 no era 1,29 a pizza perché erano 3 ragazzi vi prego di controllare queste pizza XXL 2 queste qua avete controllato avete 2,50 cioè tutta la confezione quindi 4 pizze 2,50 quindi siamo a 60 65 centesimi a pizza ragazzi questa sarà veramente dura da mandare 70 no di più scusami 2,50 sì 65 è drammatico cioè non puoi fai a cagare come la roba che forza è peggio dell'ugliuchenita dicono tutti sì sì queste XXL se non sbaglio 2,50 le ho provate abbastanza chiavicose chiavicose allora domani c'è la conferenza Apple confermo con il fatto che io non ci sono per questo evento di cui non si può parlare in alcun modo no la faranno non so chi domani sera ma ci sarà sul canale multiplayer al 100% non so chi la farà sarà una settimana incredibile per quanto riguarda le live ragazzi multiplayer.it slash live perché ci sarà la live oggi su Resident Evil su questo nuovo Resident Evil potete sbadigliare ci sarà abbiamo detto la conferenza Apple ci saranno giovedì e venerdì due cortocircuiti speciali dal TGS con la roba del TGS ci saranno giovedì e venerdì con chi in studio con me Serino in collegamento a Ligi Comandini ci saranno le live di ragazzi di Vincenzo Gregorio l'abbiamo fatto fuori perché vabbè te non sei mai stato considerato le live speciali ma scusa io non venivo perché eravate già in tre siete in due e non mi hai chiamato guarda mi dispiace che non ci sia una telecamera aperta 24 ore su 24 infatti con Alessio basterebbero 5 ore su 24 in ufficio perché la vena è il periodo della vena perché se lo invidi a fare la live caga il cazzo che non vuole fare la live perché se non lo invidi a fare la live caga mi pare mi nonna lo sai che dico sempre mi nonna è che quando entravi in casa sua se c'erano le finestre aperte ti cagava il cazzo chiudi ste finestre se ci stanno le finestre apri ste finestre non fai respirare mi nonna uguale che purtroppo a 95 anni campa ancora quindi c'è un pericolo rispetto a te a me piace a me piace sentirmi amato io voglio essere invitato a tutte le feste tutti i matrimoni non sei stato invitato e declinare l'invito in questo caso non sei stato invitato neanche invitato questo mi fa male al cuore dopo ti farò un invito ufficiale a cui dirà darai forfè va bene però fallo comunque TGS ci saranno le live dei ragazzi da Tokyo quindi sia giovedì che venerdì prima del TGS non solo ci stiamo informando per fare la live del reveal di 80 minuti di Death Stranding e faremo anche la live di Yakuza Yakuza che ci sarà il primo Yakuza 7 il primo gameplay con questi combattimenti a turni faremo vedere anche quello ma poi ci sarà il culmine nel fine settimana ah giusto la cosa più importante sabato dalle 18 fino mi sembra alle 21 dunque dalle 18 a oltranza faremo le finali italiane del torneo di Mortal Kombat di là in studio con di là in studio saremo qui ci sarò io con Merlo che commenterà farà il caster tecnico io commenterò e farò le puzzette con le ascelle farò mentre lui commenterà e ci vuoi essere anche te no tu non ci sarai neanche morto tra parentesi qui ragazzi anche da casa se volete sbadigliare sentitevi liberi esatto dalle 18 fino a oltranza il vincitore delle finali italiane volerà a Parigi a fare le finali mondiali di Mortal Kombat subito cioè esci di qua e c'è l'aeroplano ce l'ero pronto lo seguiamo da Terni c'è la biosuperficie la biosuperficie da Terni e fa un Terni Perugia con un Cessna con un Piper anzi da qui arriverà diretto lì si lancerà con il Paragatute su Parigi quando saranno le superfinali non lo so quando saranno però saranno lì allora ci sono un po' di chiacchiere ciao Pierpa fare qualcosa per il pizza romana dei del 12 non ho idea di cosa sia non vai con dissapore a fare le tue coperture non so neanche cosa sia il 12 mi sono qui a fare il TGS quindi che cosa hai fatto tu nel weekend stavi per dire io ho fatto ho avuto un bellissimo sabato mi sono regalato ho regalato a mia moglie che cos'hai che ti stai spostando mentre parlo perché penso alla pizza in forno stai scorreggiando non vuoi farlo vedere che c'è uno spostamento romano no perché lì ci sarebbe la pendenza e invece era proprio e traslavo perché come al solito hai fatto la domanda e poi puoi far vedere che te ne vai dove me ne hai chiesta bravo come fai sempre ho fatto un sabato una bellissima giornata alle terme a cucci terme a fiumicino terme veramente per super vips ecco perché l'hai anticipato perché te piace non mi fai mai ve lo vedi che non posso mai parlare ti piace vantarti capisci per quello hai detto ve lo dico non ho fatto le storie no quella era di ieri anche adesso prima e dopo vi dico cosa ho fatto una roba bellissima tra l'altro è incredibile senti questo voi poveri state pure nelle vostre cittadine ho questo aneddoto incredibile ho preso tra le altre cose anche il massaggio di coppia che è una roba pornografica no in realtà non è pornografica però si è un massaggio di coppia ma nel senso voi siete attaccati avete contatto l'uno con l'altro noi abbiamo un rapporto sessuale e contemporaneamente qualcuno ci massaggia è bello però ti piace come scena è un po' difficile logisticamente ma potenzialmente potrebbe essere un moltiplicatore d'orgasso comunque purtroppo non è così siamo ovviamente massaggiati da due persone diverse ma nella stessa stanza tra l'altro entrambi maschi entrambi femmine un maschio e una femmina una femmina sulla femmina no è a scelta perché è bellissimo preparativi ti fanno scegliere la playlist il tipo di burro con cui ti spalmano la tua moglie ti permetterebbe di essere massaggiato intimamente da una donna? probabilmente no ma la cosa bella è che siccome loro non vogliono dare perché magari vuoi essere vuoi investire loro ti lasciano cambiarti perché mi hanno dato sai il periazzomino quello di cartone per i massaggi è bellissimo veramente una roba top se avete dei soldi da voler buttare fatelo basterebbe per me il cerottino mi chiedo ma se hai messo la X la Xetta sopra come nei cartoni animali esatto dicevo la cosa incredibile è che tutti questi preparativi meravigliosi poi loro ti dicono allora io tizia massaggerò su questo lettino io tizio massaggerò su questo lettino quindi tu l'importante ti fai trovare sul lettino sapendo questa informazione ma la cosa migliore è che mi sono fatto fare questo massaggio questo ragazzo bravissimo proprio a un livello che tipo di massaggio rilassante total body potete scegliere per antistress o vigoroso io ho fatto fare un antistress mi piacerebbe vigoroso bellissimo invece mia moglie non avevamo total body dalla ragazza tra l'altro e tra l'altro ho scoperto finito il massaggio che la massaggiatrice era una mia vecchia compagnia di scuola e mi aveva subito riconosciuta compagna di classe di classe delle elementari e io non l'avevo riconosciuta come sarebbe stato avendolo saputo prima in che senso cioè se tu l'avessi riconosciuta ti avrebbe creato un po' di imbarazzo me l'ha fatto lui comunque il massaggio ah ok è vero scusami ma ha visto col perizomino però no me l'ha fatto lui veramente un'esperienza top e non ti ha detto esattamente come me lo ricordavo Pierpa mi ha detto ti è rimasto completamente pensavo fosse cresciuto Pierpa e dicevo invece ieri sono stato che tu conosci perfettamente il Treia vicino al fiume Treia vicino Calcata vicino Viterbo qua sopra non ci sono mai andato un bellissimo casale che paghi l'ingresso spazi apertissimi tutti gli animali che girano ho fatto tutto per i bambini un bellissimo posto per portare i bambini ad interagire con la natura si con gli animali ma è una roba pomeridiana cioè quindi sei Viterbo e non mi chiami non so la Viterbo non dici vieni a giocare con la zebra non sto a pensare a dire vieni a giocare con mia figlia pure tu con il capriolo stato bellissimo ci sono gli asini c'erano i cavalli le mucche i maiali tutto lì che va in giro liberamente con più tutte le giostrine per i bambini e poi fare liberamente picnic barbecue bellissimo anche voi nel weekend ragazzi molto bello mi siete fatti fare massaggi da ex compagni di classe no noi siamo andati in America sei andata in America? sì ma non è male un weekend in America è abbastanza molto allora sono stata in America a Pittsburgh ma quando? nel 2016 vabbè manco tanto tempo fa però eh allora allora si l'audio è fuori sincrono ragazzi lo sistemerò per la prossima diretta 100 bit di Westclaw che ha messo e ha detto sogno una puntata del salottino in stile video youtube in stile una challenge oh video youtube anche io con Alessio che mangia due chilogrammi di marmellata più un polletto rafforzato ho capito che sono una mignotta del video però cioè prendermi qua e poi darmi dei soldi per dire mangia di tre chili di collo due chili di marmellata con un polletto rafforzato anche se non sembra ragazzi un po' di dignità facendo questa roba mi è rimasta ed è uno zoccolo duro diciamo che il fisico lo reggerebbe no aspetta il fisico lo reggerebbe dipende quanti soldi 1000 euro è bravo infatti stavo per dire cioè nel senso che tutto ha un prezzo stilati su 1000 euro ma che 1000 euro io mi ci spazzo il sedere cioè 1000 euro non mangi due chili di marmellata a un pollo ma no ma vengo a lavorare qua due ore facendo finta spingendo i bottoni a caso guadagno 1000 euro cioè secondo te devo fare 1000 euro arriva uno in contatti dice 1000 euro ti mangi due chili di marmellata no non lo faccio io al 100% ragazzi per 1000 euro proprio guarda se la marmellata mi piace molto ragazzi mandate la marmellata con la serie se la marmellata mi piace molto anche 500 euro se la marmellata mi piace molto ma rischi di stare male la vita cioè comunque fai la figura di un pirla se prendi una bella marmellata un acce nero una marmellata insomma ma capito un chilo di marmellata cioè ti viene da vomitare capisci la mangi e la vomiti la vomiti e la mangi più il pollo grazie a Clarencito per l'abbonamento grazie a Erics siamo pochissimi spettatori ragazzi chiamate i vostri parenti che cazzo abbiamo pieni di ospiti però una volta che facciamo la live non c'è state mai effettivamente annunciarla 3 minuti prima non è stato il massimo non è la cosa più intelligente dignità non sapevo l'avessi piani sani allora dice Momoka ci dice io una volta ho fatto un massaggio senti Momoka che ne sa ragazzi che ne sa io una volta ho fatto un massaggio total body con due massaggiatori uno operava sulla zona sinistra e uno sulla destra un'esperienza meravigliosa e dice ho raggiunto 3 orgasmi questo l'ho aggiunto io costo dell'operazione il mio era Momoka entrambi vogliamo sapere allora io ho speso in tutto 310 euro per singolo dimmi per singolo 155 euro a testa ok per l'ingresso nelle terme nelle terme tutto il giorno all day e che cos'era roba solforosa roba che putta di uomo marcio no no sono terme solamente di acqua calda piscine costruite in muratura all'esterno all'interno no no costruite interno e esterno ci sono dei bellissimi giardini esterni con circa 7-8 piscine diverse e all'interno ci sono un bagno turco 3-4 saune diversi bagni di vapore ci sono le cascate per i massaggi sulla schiena altre 2-3 piscine no forse di più 5-6 piscine diverse molto bello più il pranzo che è un pranzo a buffet di qualità di qualità di grande qualità sì assolutamente di grande qualità più il massaggio beh 150 euro 150 euro la cifra senza un poveriggio quanto dura tutta l'avventura siamo arrivati là alle 9 e mezza ce ne siamo andati via intorno alle 4 scappando perché dovevamo andare a prendere Rebecca perché attenti saremmo rimasti una roba lunga perché poi alle 18 e 30 fanno un aperitivo ma perché vi siete premiati così no gli ho regalato io per l'anniversario abbiamo fatto 5 anni di matrimonio gli ho regalato io a mia moglie 5 anni ti dà fastidio che faccio regalo a mia moglie per il matrimonio sono molto contento anche che tu non mi hai regalato niente per il mio per il nostro anniversario non mi hai regalato nulla giustamente e non so invece Momoga sentiamo se ci dice quanto ha speso diciamo che il massaggio da solo se non ricordo male era 80 o 85 euro sul massaggio un'ora un'ora di massaggio con l'extra della compagna di classe che non me l'hanno fatta pagare gratis era gratis certo perché non era preventivato fatemi vedere infatti volevo dirvi che quando fate le live dovete avvertire due o tre giorni prima due o tre giorni prima non lo sappiamo se gli iscrivevo sabato facciamo la live lunedì mi rispondeva stamattina qui quindi non ha senso allora fatemi vedere bla 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 dove c'è Momoga allora non so dirti il costo era un regalo di compleanno hanno assolutamente da provare beh Alessio se li fanno un massaggio due persone avrai almeno dieci orgasmi se ti massaggiano io voglio un grande happy ending con una piccola parte di massaggio dopo se serve però per me l'importante è quella parte quella parte dell'happy ending sì assolutamente però voglio essere voglio la mia mente deve dire ho comprato un massaggio perché sai che io non vado a prostitute per per cioè quindi praticamente devono sapere loro a priori che ti devono fare l'happy ending senza sì esatto devi organizzarmela tu come al solito te lo organizzo io va bene e allora diceva Roberta è vero perché io non so entrare in dettagli perché credo non ve ne freghi un cazzo però sì Alessio Roberta diceva che gli hanno messo gli asciugamani caldi gli hanno fatto la tisana trattamento ragazzi credo a Roma è il migliore a Roma in realtà a Fiumicino vabbè non è che avrai girato tutte le spa sfido i disadattatini a dirmi un migliore posto un migliore termine dove farsi fare dei massaggi a Roma secondo me il posto migliore in assoluto un trattamento incredibile incredibile veramente incredibile il nome del termine si chiamano QC cioè Q di quadro C di como terme sono a Fiumicino sulle portuenze perché cosa sta QC? boh quanto costa queste terme quanto costano queste terme credo sia per quello lì fatemi vedere Eleonora mi dispiace che vi eravate a organizzare per fare il pranzo voi due in compagnia del salottino domani purtroppo domani non c'ero io non c'era Umberto era un casino abbiamo fatto oggi settimana prossima ritorniamo martedì normale sì confermo che organizzo i puttantour per Alessio l'abbiamo detto in più di una live io non sono un puttantour Alessio ha una ricerca in particolare funziona in questo modo lui mi fa un bonifico di circa 600 euro al mese però è quelli automatici così lui non si ricorda più io ho già dimenticato i bonifici ricorsivi ricorsivi gli ho dato il read e praticamente gli manda questo bonifico di 600 euro ogni mese lui va tranquillo esatto io gli amministro quando so che lui esce così via che lui diciamo va a cena fuori dopo va a bere e casualmente una ragazza gli si avvicina per fare conversazioni gli fa l'occhiolino e poi lui la porta a letto alla fine della serata lui è convinto di aver conquistato la ragazza in realtà io ho utilizzato quei 600 euro per pagare adesso per almeno una settimana non lo posso fare perché devo dimenticare questa parte e io lo facciamo per il massaggio è la stessa cosa cioè io gli organizzo guarda lui mi dice vorrei fare un massaggio io faccio dice penso io lui va a cercare happy ending barra massaggini e funziona in questo modo lui mi dice guarda ti ho preso il biglietto tra l'altro non mi tengo neanche dei soldi perché è cumulativo cioè se non li ho spessi quel mese lì passano il mese dopo e ci sarà un picco clamoroso di qualità lo confermo lo confermo assolutamente infatti quando tutte le volte che ho troppe avventure alla sera nei bar la qualità si abbassa sempre di più infatti come dicevate ho visto oggi in live che dicevano tutti che Alessio era super pimpante oggi perché confermo in questo weekend quante uscite hai avuto questo weekend con happy ending perché dicono tutti che sei molto pimpante oggi in realtà non è stato è stato naked director mi è dovuto bastare purtroppo ti sei masturbato con naked director no no però ci sono un paio di scene che stavi lì ci sono pensato sì o no sì o no perché la cosa bella che hanno fatto non ti si vede non è importante mi si sente le scene di sesso comunque sono girate ci sono le due persone che fanno sesso ma ovviamente non c'è close up né visione degli organi genitali e quindi e quindi c'è è come un porno senza il pene la vagina quindi eri lì che dicevi beh è solo che che faccio però eri disteso sul letto e ho detto ma mi devo alzare a pulirmi quindi non potevi dire madonna col computer con la pancia con il distributore del governatore di fat island del gelato in bocca lì e quindi non ti potevi muovere allora allora alessio quando metterai allora ragazzi flak4 si è abbonato al terzo mese alessio e ha detto quando metterai ste cazzo di emoticons terzo abbonamento di flak non so come farle se mi mandano il link come disegnarle lo trovi tranquillamente sull'account allora fatemi vedere ci sono altri abbonamenti no erixerix05 non so se ti avevo raccontato allora fatemi vedere se ci sta qualcos'altro avete fatto un po' di domande vedevo chioccio la salottino video telese termi imbattibile vicino al lago e su una montagna ma quale lago quale montagna cioè date un po' un po' di informazione telese dov'è sapete in campagna ragazzi ho detto a Roma e dintorni in campagna se per questo sono state le terme di agnano che mi hanno fatto super cagare verso benevento mi hanno fatto super cagare le terme di agnano e sono stato decine di volte ovviamente al necombo e poi seidon a ischia necombo bellissime poi seidon fanno cagare a me non piace un necombo bellissimo un po' sto ecco quello che manca a cuciterme come alessio avrà capito che ha fatto le domande da uno che sulle terme ci va da decenni ovviamente non c'è la non c'è la parte paesaggistica cioè non è le terme nelle rocce o questa roba qui però c'è un bellissimo aereoporto no c'è un bellissimo giardino all'aperto è una villa bellissima ovviamente allestita bene certo ma manca quella parte lì allora Samichilovat è molto triste per le disavventure di Umberto purtroppo capita così ma tranquilli che Umberto poi si fa 18 giorni di vacanza dopo il TGS questa purtroppo vi tocca e allora fatemi vedere e no recuperare dei pianti Pierpaolo sei mai stato alle termini suio chiedi due tre piattini non so neanche dove siano le termini di suio quella porta lì suio non so aveva provato a realizzare i badge Alessio confermo quello che dicevamo ma facevano cagare quindi ha fallito evento Apple di domani Alessio che ti aspetti dall'evento Apple di domani te lo stanno chiedendo tutti un telefono questo vabbè però è come di che ovvio si sa non mi aspetto più nulla da Apple purtroppo bravo Alessio finalmente hai visto l'annuncio gli annunci di Asus dei computer quelli di qualche giorno no adesso ci guardiamo ho la sorpresa ho una sorpresa Pierpaolo sì potevo ti ho portato la ciuffe l'ultima volta sì no la left no la ciuffe la ciuffe ti ho portato volevo salire sentiamo dai abbiamo una fantastica fest beer cioè la birra delle feste che cos'è con una dollina no non si vede perché non c'è il fuoco con una dollina olandese che cos'è la fest beer tu devi dire brewed with the finest finest ingredients ci sta scritto oddio com'è brewed ogni volta brewed è spillata spillata no no è quella parte prima non lo so come che non è distillata vabbè fatta con i migliori ingredienti fermentata neanche fermentata neanche però è fatto vuoi un po' goccio di birra la fest beer la birra delle feste esatto fatta in Baden-Württemberg in Germania secondo me non esiste questa città se vanno a cercare su Google Maps secondo me è inventata Baden-Württemberg secondo me sono un po' indietro di cottura si fanno schifo dall'odore si sente che è proprio sbagliato quello però non c'entra dietro la cottura si sente dall'odore poi perché hai tirato fuori tre bine così si scaldano infatti mette le mette nel forno ma le hai tirate fuori e le rimetti e le possedono perché non ti piacciono Pier perché allora non è che non mi piacciono è che secondo me sono estremamente sopravvalutate a parte che per come sono collocate hanno un problema di sovraffollamento gravissimo io qua ci andavo sempre a strapieno di gente hanno delle piscine un po' triste anche quelle non hanno tanta roba scavata nella roccia cioè un po' triste come location soprattutto secondo me hanno un confronto con i Negombo sentiamo da lì voi ci siete andati Negombo e Poseidon Poseidon mai Negombo secondo me è che proprio vincono a mani basse perché hanno la collocazione cioè sono proprio è un posto bello dove stare ai Negombo cioè è proprio bello con le rocce cioè è tutto bellissimo invece Poseidon secondo me sono abbastanza tristi purtroppo a me tutta quella zona la di Citarra non è che fa impazzire se devo essere sincero di Ischia quindi tu bevi lì ah porca miseria c'è nessuno vabbè possiamo dare i calici alle ragazze assolutamente allora sono nel sud pontino Pier non conosco Soio voi bevete birra? Soio ah in provincia di Latina non lo conosco madonna le birre in Latina che schifo allora devo dire io ci ho fatto delle grandi estati con le birre in Latina è un po' sbagliato come concetto perché la lattina comunque sei uno da Guinness in Latina quindi te? no e allora perché ma sto dicendo che mi pare che sia è alluminio la lattina o è latta no è alluminio la famosa latta adesso ricominciamo come la Lega come l'altra volta la famosa Lega la domanda di Alessio che ha abbassato il tono volutamente le lattine sono fatte in alluminio o in latta la latta che cos'è? che elemento è? la latta secondo te è un modo di dire o è un elemento la latta? infatti lasciamo perdere l'uomo di ferro di latta l'uomo di ferro di latta cos'è? che schifo mamma mia che fai? ma è comunque un ottimo modo per conservare la birra in che senso? è molto comodo da spiaggia io portavo sempre delle grandi lattine non si compromette perché invece la bottiglia in vetro si? no assolutamente però chi dice che schifo la birra in lattina quindi sono tipo da Guinness in lattina? no semplicemente sto dicendo che si conserva perfettamente il prodotto dobbiamo ricominciare è una roba però è senza senso allora ragazzi avete mai provato la birra a limone a limone quelle veramente sono terribili le Radler purtroppo sì in più di un'occasione in estate mi sono capito di diversi barbecue con amici e diversi non mi ricordo se al mare o qualche cosa che mi sono ritrovato con la gente che aveva portato la Radler ma poi la fa anche una marca del cazzo tipo la Peroni secondo me c'è proprio penso la roba più bassa qualitativamente d'estate mi fa vomitare la birra a limone è meglio bere il limone beh però birra a sprite la bevi no quanto l'hai portata l'altra volta e fa cacare birra a sambuco non l'ho mai provata birra a sambuco questo è per benintenditori birra a sambuco è importante wait 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 abbiamo abbiamo la Fanta al sambuco che mi fa schifo la che bevete perché la Fanta a zero non l'hai ancora assaggiata la Fanta a zero mi fa schifo sei sicuro che sia zero non è zero quella mi ci posso giocare tu prendi solo roba a zero no non è zero quella perché non c'era zero secondo me non esiste è quella la blu cioè riesci a non vedere questa cosa blu brutta adesso scometriamo allora intanto faccio vedere la pizza ah no non è Fanta a zero te l'ho detto poi la assaggerò allora allora come potete vedere direi che l'estetica abbiamo un grosso prendi la confezione abbiamo un gravissimo problema di quello che si chiama cornicione che sembra essere inesistente poi è il tuo perché sei tutto piegato tipo su se stesso sembra quando cucini la fettina di carne senza che hai tagliato il grasso che si rattrappisce tutto in quel modo come potete vedere manca poi oltretutto è tutta buccherellata come se ci fosse il rischio che anche crescesse capisci l'hanno buccherellata ah si tipo si hai ragione tutta buccherellata allora al solito problema che qui fanno vedere la mozzarella fatta in modo serio come si fa la pizza quindi a stracciatella in realtà la mozzarella qui non esiste è scomparsa ah chiaramente un problema gravissimo è super biscottosa anche solo a sentire allora è biscottosa è un po' indietro secondo te la prossima la scende il fuoco immagine chiaramente uno il voto possiamo dare uno presentazione Alessio voto presentazione uno è difficile questa qua questa fa veramente cacare mamma mia questa ragazzi questa è dura è dura ragazzi allora questa è allora questa è gommosa gommosa e riesce a essere biscottata la prossima allora riesce a essere biscottata sul cornicione gommosa dentro quindi la roba sa solo di origano sembra pomodoro e origano una pizza pomodoro e origano pomodoro e origano fa vomita questa allora purtroppo abbiamo dato una a qualcun'altra di sapore no totali uno no questo uno 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 possiamo fare uno 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 a rapporto qualità prezzo ah si lo so non c'è non c'è poi rapporto qualità prezzo in questa cosa uno 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 costa sessanta centesimi allora presentazione sessanta centesimi presentazione pasta e sapore per me uno 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 la peggiore in assoluto è chiaramente chiaramente la peggiore anche peggio della prima che avevi fatto non mi ricordo qual era no si si la prima era la bella napoli di cameno è imbarazzante ragazzi questa è imbarazzante ma questa è solo di prezzemolo non puoi vomitare tu no è un certo retro gusto di compost fa schifo è una roba imbarazzante è è tutta sbagliata è l'impasto che è proprio sbagliato è tutto sbagliato è dolciastra lo sai che secondo me una roba del genere per me non dovrebbe essere venduta perché l'importante è che non sia nociva secondo me questa è nociva secondo me questa rientra fra le cose nocive non dovrebbe essere venduta come vuoi dire che è nociva perché proprio senti che non è un sapore di una cosa che ti può far bene quando la mangi allora io credo nella scienza no no credo nelle regole stringenti della comunità europea che sono fra le migliori al mondo dopodiché non è detto faccia cagare cioè può far cagare pur non essendo imbarazzante veleno allora ci chiede Luca Renz è giusto dare l'elemosina voi la date bella domanda l'elemosina no dipende dipende la domanda è semplice è giusto dare l'elemosina sì no voi la date sì no ecco giusto no perché il giusto e lo sbagliato lo diciamo sempre per chi ci crede lo decise Dio Gesù Cristo e compagnia giusto e sbagliato è una domanda sbagliata mentre che cazzo di risposta la democrazia no è no perché la prende la posizione è giusto o sbagliato per me non esiste il giusto o lo sbagliato esiste il legale e l'ilegale la dai o no la date l'elemosina può capitare che io la dia quando sono particolarmente toccato cioè tipo quando voglio fare bella figura a livello sociale quindi voglio gratificare me stesso facendo se sei in macchina una bella figa dare l'elemosina facendo credere di essere più buono di quello che sono meno cinico e stronzo di quello che sono anche se capisco che possa fare schifo ma tanto le persone a cui che sottoporrò questa cosa non lo sapranno mai oppure no cioè per me aiutare una persona in un momento del bisogno può starci io preferisco farlo con gli amici cioè penso che se le persone avessero tutte cura delle 3-4 persone a cui vogliono bene che gli stanno intorno per un effetto semplice di moltiplicazione si starebbe praticamente tutti bene al netto degli oceani delle isole che magari allora io no non do l'elemosina in altro modo no faccio molta beneficenza ma addirittura molta molta per i soldi che guadagni sei il più grande benefattore in rapporto ai soldi che conservo si ti dico che faccio molta beneficenza faccio abbastanza beneficenza si qual è il tuo problema per esempio io ho l'abbonamento al WWF a cui do i soldi per esempio do i soldi sempre all'AIRC l'associazione per la ricerca per cancro l'ultima volta abbiamo fatto anche quella per la leucemia con Iliana comunque ho due o tre cose a cui do i soldi considerato quanto guadagno hai dei figli per corrispondenza a parte che ma che cazzo hai il postal market figli per corrispondenza ma non si dice figli per corrispondenza quelle cose ma qual è la tua immagine di figli per corrispondenza che cazzo significa quelle cose che compri i bambini di colore in Africa non li ho comprati i bambini di colore in Africa in nessun modo e no non faccio neanche quella roba lì ma semplicemente perché non trovo un bambino che gli piaccia no non trovo società che gestisci cioè non mi fido molto di quella roba lì in cui non lo so già allora già dare i soldi a like questi qua un po' ci speri ci mangia ci mangia sopra troppa un po' ci speri ma quella roba lì sull'adozione a distanza e così via cioè troppo troppo rischioso secondo me e non pensi proprio che sia questo aiutare le persone a casa loro come Salvini che ti stanno vicino perché risolve proprio ma se uno mi chiede dei soldi certo gli ridono ma non è che un giorno vado a casa di un amico mio e gli faccio chiedere le do 100 euro perché so che stai messo male non è che non è che non ho le amicizie così se tu mi dovessi chiedere dei soldi avrei bisogno di 30.000 euro purtroppo ho sbagliato persona non sia un artista brutta notizia vendi tutto in casa per cui da sto punto di vista ti dico se un amico mi dovessi chiedere dei soldi non ho problemi assolutamente a dargli allora ricordati è vero Roberta mi ricorda che stasera c'è la prima puntata di Tentation Island VIP assolutamente perché guardi loro? no sto guardando sembrava molto in via scusate perché stavo facendo in telecamera Roberta assolutamente me lo ricordo ma ragazzo c'è Tentation Island VIP lei è carichissima lei è carichissima Tentation Island VIP anch'io prima puntata non vedo l'ora io non vedo l'ora proprio lui è super fan tu lo odi ti fa cagare proprio spruzzo non vedo l'ora di vederlo assolutamente ringrazio Panda993 per il secondo abbonamento e anche Mark1995 per il secondo abbonamento e dice solo per pianella Vito Iuvara grazie Vito sei abbonato Vito grande Vincenzo sei abbonato Vito però è Vatto scusa cioè lui che frequenta cioè io capisco quegli spostati che seguono solo noi che non capiscono niente ma Vito Iuvara ha un minimo di tratto con Vito quanto prima già non mi ricordo più il giorno ma l'ho segnato faremo una nuova puntata della nuova stagione di Stiamo Giocando cioè intervista te non intervista me certo proprio sono l'ospite d'onore dell'apertura della nuova stagione ma scusa Vito assolutamente sappi che io non verrò mai più ospite della tua cosa non lo possiamo fare tutte e due neanche no dai 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 tra parentesi sai che mi sa che tu mi hai battuto se vai sul canale di Vito Iuvara hai perso l'ho battuto senza comunicarmi in nessun modo ti prezzo a tua che quando fai una roba metti i cartelloni e vedo sugli autobus esatto mi sa che sono andato a vedere la tua comparsata da Vito Iuvara penso che sia ancora la prima perché c'è il contenuto sì però sotto c'è scritto anche Pierpaolo culo merda che non capisce niente i videogiochi quello però ovunque allora la pizza a gegè non era malissimo peccato che Alessio l'avesse cotta male come al solito dice Sammi Chilovat tu avevi fatto la torta la pizza a gegè ma io sono convinto che la pizza a gegè ah tra parentesi ho scoperto che il prodotto a basso costo questa proprio c'ho una fame che non ci vedo questa fa cagare cioè ho fame non riesco a mangiare sta merda il prodotto a basso costo di Italpizza sempre prodotto da Italpizza non sai Italpizza ce l'hanno pure al Sakov da me a Roma ho visto mi prendi la margherita c'è solo la palla eh non la palla non prendere la palla devi trovare la l'ho visto che c'è allora Pierpa saggia decisione quella della ragazza già mi sono dimenticato di che decisione parlavamo saggia decisione quella della ragazza mi ha detto Roberta non mangiare forse Alessio da anche 100 euro di elemosina alle ragazze dell'est evidentemente potreste iniziare a pensare a pensare che stanno nelle elemosina queste poveri immigrate allora fatemi vedere figli per corrispondenza ovviamente hanno tutti che non ha senso quello che dici hai qualche figlio in Asia fra tutti i tuoi viaggi quelli di turismo sessuale tra Thailandia quella che hai fatto figli in Asia no io non ho figli perché questo richiederebbe una potenza sessuale soprattutto richiederebbe che qualcuno avesse scopato cioè la cosa non capita perciò è impossibile che esistano degli figli c'è una bellissima domanda di Westclaw che dice non è una domanda ha un'affermazione che dice convincetevi che donare bitta al salottino non sia elemosina o beneficenza ma un investimento è vero è assolutamente così allora facciamo questa cosa qui il giorno in cui il salottino farà 100.000 euro ridaremo indietro il doppio in centesimi di quello che avete investito in bit traduci in italiano quello che hai detto cioè perché è incomprensibile il giorno in cui il salottino arriverà a 100.000 euro di incasso daremo non dire incasso perché poi arrivano gli sponsor facciamo 100.000 euro ci tocca di dare di donazioni ragione scusami ci teniamo a sicuro dagli sponsor è vero è vero in donazioni vi ritaremo indietro quella che hanno messo i bitly per esempio giuppi ha messo 6.332 bitly in centesimi sarebbero 63 euro gli diamo il doppio 126 euro cosa vuol dire in centesimi sono 63 euro ma che lì qua parli ha messo 6.332 bitly e cosa sono i centesimi li converti come li converti i bitly in euro eh vabbè mica gli posso da 6.396 che in euro ah vuol convertire proprio il numero in centesimi esatto cioè diventano 63 euro lui quanto ci sta dando in realtà quanto vale sicuramente di meno sicuramente 100% in euro quindi lui avrebbe 63 euro e li raddoppiamo 126 euro allora vi fidare a dare i soldi a quelli che chiedono che li chiedono per strada dicio adesso scusami tu hai appena scatenato una cosa sbagliata perché se loro fossero intelligenti si metterebbero d'accordo domani ci sono 100.000 euro e ne devi essere voglio vederli voglio vederli e poi cosa fai scappi è che è talmente impossibile vai da confinio in Africa allora il problema concordo con Pierpa dice Tulan il problema di tutte queste onlus e affini è che non sai esattamente quanto dei soldi che doni viene effettivamente utilizzato per quello scopo e quanto si disperde in costi di gestione e così via chi dona avrebbe diritto di conoscere tutta la filiera eh lo so lo so però è un casino qua ragazzi se ne volete pare che il pubblico ha detto che è sazi strano salutiamo alla ruota ha detto grazie ma siamo sazi salutiamo alla ruota ancora come pizzaiolo all'esse lunga tra l'altro devo fare pubblica ammenda per Alessio che ha una grande ragione sulla pizza fresca quindi lo riconosco qui anche Umberto lo farà poi il suo pubblica ammenda anche lui sono arrivate 7000 foto da tutta Italia che dimostrano che al banco fresco dei supermercati c'è la pizza fatta da reparto e dimostrano pure che un sacco di nostri disadattatini non hanno un cazzo da fare anche confermano ma quello si sapeva già qua ti volevo dire che è arrivata quella un po' più scocchierella la pizza catarino mamma mia che schifo allora ci dicono questo è molto interessante Alessio tu purtroppo guardi due domande due domande importanti tre anzi caro salini dice per te la prostituzione è lemosina? no per me per me la prostituzione è uno scambio commerciale perfettamente anzi legalizzate legalizzate poi Giancif ti dice un'auto nuova è meglio acquistarla oppure noleggiarla oppure leasing qua so che con te colpisce questo potremmo farci una puntata quando torneremo a fare le puntate serali approfondite insieme a quello di comprare o affittare casa parleremo in dettaglio anche di questo purtroppo ragazzi allo stato attuale per un privato è relativamente costoso il noleggio a lungo termine troppo costoso mentre con la partita IVA ci si può arrivare serenamente e io non voglio essere proprietario della mia automobile io voglio semplicemente un mezzo per spostarmi quindi assolutamente la cosa più logica sarebbe non essere proprietario purtroppo allo stato attuale conviene pagare tutti i sporchi e subito e io aggiungo anche un altro elemento se che purtroppo è molto discriminatorio ma con la mia esperienza di vita ve ne posso dare conferma quindi prendetelo come vi pare se le persone di colore non devono avere la macchina se siete single o se siete una coppia e non avete figli e abitate in una grande città o comunque una città di medie e grandi dimensioni che hanno servizi di sharing di automobili quindi che pagate al minutaggio come Enjoy Share & Go e così via per me non vale né il noleggio né il leasing se siete in città la macchina non è da comprare assolutamente non avere nessun tipo di macchina muoversi solo con lo sharing e quando vi dovete spostare sulle lunghe percorrenze solo in treno noleggio anche in quei posti o addirittura Uber se andate fuori dall'Italia o addirittura taxi risparmierete comunque a meno che certo non siete persone che viaggiano fanno tre viaggi a settimana risparmierete sempre e comunque moltissimo non avete nessun tipo di rottura i cazzo in box la macchina che vi si usura trovare parcheggio cioè guadagnate in vita di proprio vita personale e in risparmio però non dovete avere figli perché purtroppo i figli purtroppo per fortuna io sono figlia o una figlia ti impongono una serie di requisiti negli spostamenti che non potete più fare con la roba con i treni il noleggio e ovviamente dovete stare in una grande città perché se non avete il noleggio dentro la vostra città non ha nessun senso c'è una cosa il limite allo stato attuale secondo me è ancora colpa delle società di noleggio auto che hanno è incredibile fa cagare uguale anche super cotta è imbarazzante è vero adesso sta di biscotto con sopra della roba dolce e colorata di rosso volevi la marmellata ho una fame anche io infatti continuo a mangiare ce n'è ancora tanta per fortuna dicevi? che il problema sono le società di noleggio auto che hanno un servizio possiamo definire pessimo perché io vorrei noleggiare dall'avis la mia macchina farmela trovare sotto casa disponibile non esistono esatto c'è qualcosa di veloce da pagare spenderei anche qualcosina in più perché tanto il risparmio è tale sul lungo periodo sull'anno sulla manutenzione io che sbatto una macchina ogni tre mesi cioè tutta la vita non essere proprietario e non averla in assoluto sono perfettamente d'accordo allora che macchina abbiamo? io ho una BMW serie 1 adesso io ho una BMW serie 1 ricordate qua il proletario che fa beneficenza fa beneficenza qualcuno degli altri mi definisco un proletario comunque tu invece adesso invece c'hai la 500 io c'ho una 50 per dare la differenza io ho comprato dal concessionario con tutti cercando di trovare il massimo sconto il leasing quello che dopo 4 anni ti fa la maxilato gliela rida indietro adesso ho comprato a 15.000 euro una 500 usata ma non è vero solo per buttare i soldi ma non è vero non è vero io ragazzi odio le automobili e non vorrei l'automobile mamma mia giura però veramente è la cosa peggiore dell'universo è immangiabile allora non faremo serie è tutta bucherellata non lo vedete ma per qualche ragione incomprensibile hanno detto magari cresce e non rimane un biscotto immangiabile aspetta che la buchiamo così l'aria la facciamo uscire proprio tutta no no non facciamo serie breve non facciamo man of medan che facciamo mercoledì annuncialo alla gente se è curato wolfenstein ok adesso vuole ritornare con wolfenstein mercoledì no finita la live faccio il sondaggio gears of war gears 5 wolfenstein voglio anche quella merda di blair witch vuoi provare blair witch io no però mi metto nel sondaggio il sondaggio è su 2 no altrimenti dovrebbero scrivere i titoli beh se tu possa fare il sondaggio a 3 no secondo me si ah ah si possono fare i sondaggi cosa ne pensate della gaffe di amazon sulle carte prepagate di xbox purtroppo ieri ero in quel posto bellissimo con mia figlia non mi prendeva il cellulare il messaggio di staccini a luna che mi ha detto corri compra le schede l'ho visto alle 2 e mezza che già era accaduto tutto non vi citerò i nomi ma miei colleghi uno si è fatto quasi 450 euro in crediti sullo store di xbox e un altro collega 700 euro quindi già si sono comprati la console con tutti gli accessori prossimo a cucirano hanno messo su amazon si sono sbagliati all'associare il prodotto hanno messo la carta soldi 45 euro di xbox store a 5 euro e le hanno erogate? assolutamente e tutte riscattate diversi a fine live ti dirò i nomi hanno uno quasi 500 euro uno quasi 700 euro sullo store di xbox in crediti durante la notte è successo? a luna di ieri 13 alle 13 ieri a luna di pranzo non avete sentito amazon per sapere quanto è quantificabile il danno? no perché in pazzo mi è un cazzo di dire i suoi errori allora state mangiando così tante pizze per cercare quella che avvelinerà Pierpa e fare così milioni di visualizzazione confermo assolutamente salutiamo Natalia 99 adesso c'è una ragazza di neanche 20 anni che è arrivata adesso in chat mandare foto immediatamente Instagram mercificazione del corpo prima di tutto poi dopo passiamo al rapporto intellettuale tanto al rapporto sessuale non si arriverà mai è qualcosa che non ho mai esperito non credo che capiterà mai poi allora fatemi vedere ancora ancora c'è gente che vuole Until Dawn quella roba lì non la faremo neanche Medan no però a Medan c'è una cosa che c'è quella specie di coop l'avevi visto che ci si passa il pad e che coop è se ci si passa il pad non è coop giochi da sole e ti passi il pad non è un coop no perché tu hai un personaggio dedicato quindi nelle scene cambia potremmo provare potremmo anche ci metto anche Man of Medan se scopro come si fa allora hai visto John Wick capitolo 3 si l'ho visto mi è piaciuto moltissimo addirittura penso penso che sia uno dei miei film preferiti ho visto il 3 assolutamente non è uno dei miei film preferiti assolutamente non è meglio del primo ma è un milioni di volte meglio del secondo si può fare il sondaggio ragazzi con più di o c'è si no è la domanda aperta mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo si il terzo mi è piaciuto tantissimo molto bella 2-3 scene fighissime c'è quella là quando combattono quella specie di museo di armi c'è il quiz te l'ho detto no però questo è il quiz però io sono intelligente e riconduco il sondaggio al quiz bravo sei intelligentissimo secondo me nessuno in Instagram se l'aspetta che è una cosa è così è così provo a farlo secondo me ti contatta Zuckerberg sono rivoluzionario allora direi che questo pattumè è la prima volta da meno un altro pezzo perché ho troppo fame purtroppo è incredibile perché lo senti male devo dire una cosa il sondaggio si trova sull'account il salottino underscore video su Instagram eravamo in 2-4-5 perché lei purtroppo non l'ha mangiata che ha detto lei era più intelligente ha detto mi fa cagare ancora prima che ci mettono i denti e devo dire che è la prima volta che rimane della pizza però è la prima volta che rimane sì che casualmente fa super schifo ma lui la mangia la vuoi ancora? no no grazie mamma mia fa schifo è drammatica ti chiede Gabriel però ragazzi qua esatto voglio dargli dopo però col caffè ti chiede Gabriel vorrei farti questa domanda perché è importante hai ruttato lo so scusate ti chiede Gabriel ti chiede Alessio come ti trovi con i reggiseni Victoria's Secret devo dire devo dire che qual è la marca di reggiseni preferita? no sai che io vado all'idol io mi vesto all'idol vendi reggiseni assolutamente qualsiasi cosa dipende devi beccare la settimana giusta perché tutto gira una settimana poi il top siccome loro hanno un po' di marasma alla fine i rimasugli li mettono tutti in un angoletto super scontati e devi andare come al mercato nel 1982 in cui vai a scartabellare in questo cestone dove dentro c'è la roba tutti vogliono sapere cosa ti aspetti ai nuovi telefoni iPhone rispondi cosa ti aspetti ho una risposta seria chi la fa la conferenza non me lo ricordo scusa ah perché le fa Vincenzo le organizza si no Grigori mi sembra che la faccia Emanuele non mi ricordo con chi dai si ma devi stare tranquillo non c'è fretta cosa ti aspetti dalla conferenza domani di Apple allora purtroppo è incentrata sui telefoni e sinceramente calcolando che questo è un periodo di transizione per quanto riguarda l'iPhone non mi aspetto assolutamente niente se non un update di tutte le serie per i leak che sono usciti se ci si può aspettare qualcosa da Apple riguardo ai telefoni bisogna aspettare la prossima milestone che probabilmente è quella successiva 2020 quindi ragazzi avete visto esteticamente i mock-up se si rivela quella roba lì sono i peggiori telefoni già era brutto le iPhone 10 i peggiori telefoni i peggiori telefoni a livello estetico l'andata via di Hive evidentemente qualcosa di male lo ha fatto hai visto Hive ha disegnato gli anelli totalmente di diamanti venduti all'asta 260 mila euro però lui l'ha fatto quello lo fa sempre nel lo ha sempre fatto ogni anno ha disegnato cose diverse mi pare un desk non mi ricordo comunque lui ogni tanto ha questa piccola cosa in cui mettono all'asta i prodotti e vanno in beneficenza fa cagare un anello di diamante io sono contro quella roba lì sono proprio contro la gioielleria cioè per me è talmente tribale il fatto che gli esseri umani si mettano i sassi adosso nelle orecchie e robe del genere perché voglio o elevare il mio status o pensare di essere più attraente come gli uccelletti che si fanno il nido colorato a me fa cagare quella roba lì io credo nella naturalità mi vesto al nido possiamo dire che con il partito del salottino ritornerai la tasca sul lusso no ritornerai in stile Mussolini e chiederai il pegno tutto l'oro deve essere dato dal popolo italiano assolutamente no assolutamente no perché io credo nel mercato cioè nel senso che io sono contro questa roba ma non la combatterei mai cioè ben venga la gente produce ha creatività e tutto quanto la tasseresti ancora di più? sì dipende dipende prima che prima tasserei comportamenti potenzialmente pericolosi cioè secondo me le sigarette dovrebbero costare il triplo da fumatore la benzina dovrebbe costare il quadruplo ci sono priorità di scala però allora ci dice Kvato intanto grazie oggi un botto di abbonamenti ragazzi grazie Anto e Dappi per abbonamento grazie a Mastro Bunghiaio che dice dovete provare le pizze sul girate del Lidl soprattutto la Giuseppe è questa qua? questa è Alfredo c'è un'altra linea c'è Giuseppe ci mancava grazie anche a Panda993 e ti faceva ridare Giuseppe? no perché diceva allora prima di tutto c'era Kvato The Trash Doc e dice tribale parla quello con il pelo sul petto che manco Conan il barbara ma io sono naturale cioè ce l'ho basta cosa faccio? perché lo metti in mostra perché come te come gli uccellini perché sto sudando io ho caldo ho caldo sono una persona che ha caldo sono una persona grassa che fa caldo che ha caldo Bambola38 mi chiede se mi è piaciuto molto il phon della ROG cioè l'Asus ROG Phone 2 allora mi è piaciuto molto è una parola sbagliata lo trovo purtroppo poco presentabile in giro perché è troppo tamarro nei miei gusti con il logo dietro che si illumina quello che posso dire è che sicuramente appena finiamo di fare i testing se non se lo riprende subito Asus me lo prendo perché la batteria dei 6000 mAh per me è game changer visto che con la mia batteria del mio Samsung S9 ormai se ci faccio tre ore è tanto per me pensate di avere una batteria che ci potrei rischiare di fare due giorni però io sono allora non l'ho utilizzato come te il telefono però devo dire che l'onor 10 ha sempre una durata della batteria che mi stupisce in positivo ma anche il mio XPS è arrivato anche il mio XPS ormai non va oltre le quattro ore dovrei comprare la batteria nuova dipende sempre cosa ci fai tutto allora piano e sani quando muori ti faresti trasformare in un diamante? si può fare lo fa anche Taffo purtroppo succederà volente o non volente a meno che non diventi con cime mota è possibile che io venga distrutto decomposto pressato e torni fuori come un bellissimo diamante allora con il quale vorrei che tu vorrei che andassi in giro con un bel orecchino lo metterò a Rebecca gli orecchini diamanti di Alessio che ne dici? ti piace come idea? assolutamente allora ti volevo chiedere questa cosa qua effettivamente ci dicono un'informazione molto bella hai già deciso hai notato che piace anche molto la birra beh è buonissima la birra della festa senti ti volevo chiedere hai già deciso le vacanze che farei questo Natale con gli odici ancora no? stavamo pensando la Birmania o la Cambodia o non so cos'altro? allora ho la proposta che ci fanno in chat molto interessante direi più sulla Cambogia che sulla Birmania ovvero fai live live IRL lo vorrei fare almeno 4 ore al giorno lo vorrei fare e la gente con le donazioni ti paga i trans lo vorrei i trans i transi ti intendi no no i transessuali ti paga le notti no quello non mi interessa però sarebbe bellissimo io non voglio fare senso a pagamento te l'ho fatta è come una beneficenza mi fa cagare da piccolino come tutte le persone normali normodotate tranne te mi è capitato di andare a prostitute 18 anni e robe del genere ma è una cosa brutta perché tu paghi per un'azione meccanica che ti lascia ancora più vuoto in tutta la completezza di questo termine di come sei entrato ed è anche questa la completezza del termine però è così a me ha dato mi ha veramente lasciato la mano in bocca io non voglio pagare per il senso il salottino l'avrebbe fatto anche una maschera dedicato alessio scopa in cambogia dove tu versavi i soldi e potevamo gestire tu hai mai pagato per fare senso tu hai mai pagato per fare senso e niente quindi va bene lasciate ovviamente la prima volta che sono in telecamera cioè beh dopo rifaccio la domanda a rotative ferme allora sto cercando che effettivamente ho visto che c'è stato un po' di dibattito su Natalia ma che poi non ha più risposto dopo quel ciao tra parentesi Natalia alessio già mi segui su instagram attenzione attenzione è del 99 è una persona squisita molto carina oltretutto è del 99 dovrebbe essere tua figlia è legale o illegale dovrebbe essere moralmente illegale moralmente lo dite almeno della metà dei tuoi itali non c'entra niente è una questione di affinità elettiva vogliamo vedere natalia su instagram vuoi vedere come la segui no ma la conosci benissimo è venuta anche alla festa di multiplayer cura che tirava del lei ci dicono allora non tutti vedi non te la ricordi no secondo te perché ti dava del lei secondo te perché ti considerava giovane o vecchio una questione di rispetto intellettuale sicuramente sicuramente allora consigliamo un telefono sui 300 400 euro ora un iphone 5 ricondizionato hai una rubrica dedicata ai telefoni sotto i 300 euro e lo sai anche tu ah su multiplayer è vero che fa palmigiano siccome palmigiano già non fa cazzo molto bravo si ha ragione molto bravo è un'altra roba allora fammi vedere se ci sono altre cose Alessio pensa pensa come lasciava le prostitute scusate ragazzi sto seguendo un pochino perché siete partiti al cannone è troppo grande Alessio ha detto Natalia che è troppo grande vabbè perché ti fa vedere l'unica foto super sexy in spiaggia Alessio c'è una foto normale ah sì ho capito perfetto Alessio si era bookmarkato la foto tua in spiaggia mezzanoda è la seconda è la prima che mi ha fatto vedere è la seconda è la seconda comunque ha detto Natalia era la prima dove c'era lei perdonami Natalia ha risposto ha detto è troppo grande Alessio sai che senso me lo dicono tutte me lo dicono tutte allora ma sempre prima me lo dicono tutte sempre prima Eleonora dice Alessio è del 99 può essere tua figlia e segue me che sono del 2000 Eleonora Cosenza dice ma infatti io non ho nessuna nessuna pregiudiziale questo non è assolutamente vero attenzione a basarsi su questa affermazione che non è vera se basta e fate un avance siete tranquilli che Alessio arriva senza problemi io non ho nessuna pregiudiziale per me l'età non conta nulla Alessio ci dice Carlo Salini mio padre è un poliziotto e stava seguendo questa live dopo questa missione corsi in centrale ma perché come ho sempre detto non esiste il giusto e lo sbagliato il legale e l'illegale c'è un limite di legalità che secondo me potrebbe anche essere discorso West Club dice se ne potrebbe parlare assolutamente altra puntata una puntata dedicata è puramente sociale esatto societario della società no no deriva dalla società e si traduce in legge lo sceglie la società e già il fatto che ci siano nazioni con limiti diversi dimostrano che non è una roba legata a qualche tipo è brutto da dire ma la natura la natura già ha dato la sua limitazione sono molto d'accordo con te da questo punto di vista poi per l'amor del cielo purtroppo non se ne può discutere cioè bisogna discutere in quei salottini monografici prima o poi vi garantiamo inizieremo a fare delle monografie per argomento e discuteremo anche dell'età legale per il sesso sempre quando riusciremo a trovare qualche anche ospite competente sarebbe bello trovare qualche psicologa anzi se qualcuno di voi è competente seriamente non quello sono laureato in quelle stronzate che scrivete e vuole prepararsi faremo una puntata se c'è qualche economista serio vuole prepararsi per la puntata su meglio comprare casa o affittare casa e un economista vuole pensare alla puntata su l'affitto il noleggio a lungo termine o l'acquisto della macchina e qualche psicologa o psichiatra che vuole approfittare no psicopatici è psicologa quando faremo la puntata su l'età legale per il sesso scriveteci in privato o sul salottino o anche a me perché sicuramente faremo delle puntate serie perché io e te la pensiamo abbastanza uguale anche una sessuologa penso con Bertola pensi in modo un po' differente però si ci sta dice Westclaw su Instagram ma Alessio non segue me ma segue la mia ragazza melli98 ti rendi conto che non segui Westclaw io non seguo maschi e segui la ragazza di Westclaw guarda che è criminale ci dobbiamo vedere a Milano facciamo una roba guarda che è criminale questa cosa qui per me no no ma perché ma perché io non seguo maschi a me non interessa aprire Instagram non seguo maschi cioè non mi interessa magari dicono cose interessanti anche gli uomini su Instagram no su Facebook qualcuno può dei belli chef italiani che mettono roba interessante su Instagram non mi interessa non mi interessa voglio aprire avere un bel feed di bellissimi ecco cosa c'è di male dimmi che cosa c'è di male e non c'è nessun risvolto sessuale bormoso ma metti anche mi piace sulle foto delle fighe in costume e così via no beh sì metti anche mi piace ma mi fai veramente cagare ogni tanto fuori giro ci scappa ma vedi che fai vomito Alessio ma che speri ma perché quando sei il 15 millesimo mi accendi con il conditore quando sei il 15 non ti è emozionale sei fatto caldo quando sei il 15 millesimo quando sei il 15 ti amali ti fa male quando metti il 15 millesimo mi piace cosa pensi che possa succedere che questa ragazza vede il 15 millesimo mi piace ma questo me l'ha messa Alessio wow non significa niente mi piace ma non deve essere per forza lei non deve essere una foto sua cioè se è qualcosa che mi piace punto Alessio fai schifo se uno guarda chi seguisce Instagram sono tutte ragazze tra il 95 e il 2001 ma non è vero io di sé lo sai cosa ho rivisto che hanno fatto su Lai 3 lo sai cosa ho rivisto che hanno fatto su Lai 3 Moulin Rouge di Lourman non l'ho mai visto sai ma che cazzo dici giuro un pochino è un capolavoro eh lo so però la componente musical a quel livello per me è difficile che da digerire ma sei proprio un coglione adesso fattelo dire cioè ti vedi peggio film di merda non ti sai beh hai visto Moulin Rouge veramente no è bellissimo è bellissimo è bellissimo non capisco oh non capisco lo so ma pur una bellissima storia d'amore ma perché non te lo guardi non si capisce oltretutto mi piace mi piace moltissimo Yohan McGregor e anche Nicole Kidman a me mi fa cagare Nicole Kidman no Nicole Kidman io purtroppo anche che là sono tutti bravissimi Nicole Kidman sta avendo questa seconda fase che secondo me è un'attrice diventata strepitosa nell'ultimo periodo e io me la ricorderò sempre a Venezia quando entrò da Cipriani quando ero lì che mangiavo da Cipriani spesi la follia entrò fa capire il potere di acquisto vero chi ce l'ha durante all'ido durante il festival all'ido durante il festival da Cipriani adesso andò a mangiare entrò 300 euro a testa entrò 300 euro a testa entrò entrò lei entrò lei e che all'epoca poi era perché ti parlo di 15 anni fa di porcellana si illuminò la stanza io lì ho avuto la percezione dell'aura di attori famosi di una persona proprio si è illuminata la stanza poi dopo si vede uno bassino che saluta che stringe le mani era Tom Cruise perché stavano ancora insieme all'epoca addirittura Tom Cruise pure c'aveva un'aura no perché era un po' più gigioneggiava lei è entrata proprio sembrava che volassi sembrava la madonna ti piaceva molto? no perché esteticamente non è il mio genere non è il mio genere però devo dire che come attrice secondo me nell'ultimo periodo sta facendo del lavoro io invece come adesso sono super fan non di Nicole Kidman sono super fan di Ewan McGregor e per me la notizia al D23 di Ewan McGregor che farà la serie di Obi-Wan è stata veramente perché io a differenza di quello che dicono tutti quanti io sono un super fan della trilogia nuova cioè della trilogia nuova della seconda trilogia della seconda trilogia ovviamente non del primo capitolo ma del secondo e del terzo e secondo me la scena del terzo del combattimento finale del nervosismo di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi è a livello del io sono tuo padre del ritorno dell'oggetto e tutto il resto per me quella scena è memorabile secondo me Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi è veramente perfetto ma scusa hai detto che sei contento hai detto che sono entusiasta di Ewan McGregor che farà Obi-Wan Kenobi la serie su Obi-Wan Kenobi tu no? tu sei contro? me ne può fregare di meno voglio lasciarti solo con questa abbiamo 12 minuti 12 minuti però dobbiamo prendere il caffè e mangiare i dolci esatto un accenno mangieremo i dolci il caffè non faccio il tempo mi sa andarlo a prendere vado a preparare io ok allora ti lascio questa domanda poi vai a fare i caffè dice Mito Davider Mito Davider si chiama Mito di nome è un antipasto quindi non ti dilungare sulla puntata monografica sul sesso legale se fosse legale andare con una dodicenne tu ci andresti? non lo so dovrei trovarmi dovrei trovarmi nella situazione ma la questione è se se è formata intellettualmente se la natura ha definito quella cosa lì purtroppo non posso avere a livello intellettuale una pregiudiziale è ovvio che è drammatico da dire una cosa del genere perché è veramente difficile però mentirei se dicessi che è sbagliato a priori perché non esiste il giusto e lo sbagliato in quella roba lì cioè la natura funziona per i cavoli propri dopodiché c'è ovvio che può essere estremamente scioccante nella evoluzione e la costruzione di un individuo ma io non sono uno psicologo io non posso effettivamente dire se è male bene la costruzione della personalità cosa dipende ed è per questo che vorrei che venissero degli esperti esatto perché c'è a rogarmi due commenti io posso solo esprimere un'opinione e io sono freddo e cinico due commenti in proposito comunque dodicenni che hanno avuto le loro cose è possibile certo assolutamente sì non lo so perché io non so come funziona è possibile però questo dimostra che la natura dica sei pronta due commenti due commenti è brutto da dire due commenti due commenti che commentano quello che hai detto no aspetta che se mi hanno ricordo gli ospiti di studio sono sono di essere umani di senso femminile due commenti che commentano quello che hai detto Alessio non conosce la morale questa cosa è molto importante la morale è individuale la morale non deve essere imposta il secondo commento è Alessio è il classico vecchio bavoso che commenta solo le 19 anni scrivendo you sexy come sei carino you sexy you sexy con la faccina allora Alessio è il classico rattuso passo e chiudo che cos'è rattuso se rattuso è tipo quello tipicamente campano è campano cioè quello sempre un po' viscido bavoso il vecchio viscido allora Alessio ti do due nomi top Claudia Romani e Martina Finocchio mi ringrazierai guardate che Pierpaolo per il patinato io sono molto più per la mia Alessio è animali animali granny e roba sporca lui deve vedere che il pelo sotto la scella il sudore quella roba lì lui piace The Naked Director una delle caratteristiche che hanno fatto della rivoluzione sessuale l'attrice feticcio era che non si rasava le ascelle e beh famoso perché si era anni 80 anni 90 esatto perché c'era una allora ci dice Sergio Termi Sergio Thierry ci dice io studio psicologia all'università se ci teniamo solo sul legale la legge prevede che la ragazza o sia maggiorenne oppure se minorenne ci sia il consenso e non una differenza di età superiore ai 4 anni vale anche se hai il maschio il più piccolo da un piano umano la differenza di età va valutata anche al target sociale ad esempio è più fattibile una trentenne con un cinquantenne che una ventenne con un quarantenne nonostante l'età di scambio sia la stessa perché effettivamente c'è un discrimine nel caso di ovviamente un processo di qualche tipo sì probabilmente fra una quindicenne no stiamo parlando di due case in cui lei è maggiorenne tra 18 e 38 anni è diverso rispetto 50 e 70 anni è strano però è ingiustificabile però assolutamente da indagare però è veramente importante questa cosa qua ci chiede Capitan Pop qual è la ragazza più piccola con cui hai fatto sesso io purtroppo ho fatto sesso molto tardi io avevo 18 anni lei 21 penso di non essere mai sceso sotto quella soglia perché io non ho mai fatto sesso quando ero il superiore o roba del genere perciò Tulan dice Pierpa tu che sei un papà dagli un pugno da parte mia grazie ma no perché fate cagare dovete astrarre dalla vostra condizione esatto su questo punto di vista purtroppo cioè purtroppo è la gente come voi che rovina il potere legislativo perché portate la vostra esperienza individuale e non ragionate in termini un po' più astratti e per questo che non esiste l'eutanasia ci dice Momoka che dice che in una live ha detto che è da malati essere attratti dalle minorenni come la mettiamo attenzione non ho mai detto questa cosa minorenne non lo posso aver detto posso dire dalle bambine in età premestruale cioè che comunque c'è una componente patologica perché se la natura stessa ti dice che lei non è pronta e tu comunque operi una violenza che è effettivamente contro la natura ed è violenza per definizione perché dall'altra parte non ci può essere una consenzienza tanto nessuno vuole più consenzienza non penso che esista la parola consenzienza però se vuoi dirla va benissimo semplicemente quello che dice è una stronzata ok guardi caffè prendi caffè tu muori anche il caffè allora ti dicono tutti ti dicono tutti orzo tua sorella ti prendi se vuoi caffè non vale cioè è arrivato un orzo in vetro un orzo in vetro con schiumato ma non mescolato è arrivato è arrivato cosce melovo qui orzo orzo in vetro a me a me Alessio mi puoi fare cortesemente un caffè macchiato freddo con ghiaccio in tazza calda e allora ci sono un sacco di domande continuano a dirti stamartina finocchio e così via che vedo che va proprio per la grande allora perché nella live di pianella si finisce a parlare di pedofilia è vero è una bella domanda fatemi vedere vabbè c'è un dibattito vedete questa è una puntata per la monografia che dovremmo assolutamente assolutamente fare quindi avete continuato a chiedere informazioni sulle case in affitto in acquisto sulla sessualità ma sulla legalità ma assolutamente ci dobbiamo far seguire da degli esperti per evitare di dire minchiate questo è molto importante e anche sulla macchina so che anche la macchina l'avete chiesto più e più volte io non ho visto se c'erano altre ragazze che passavano da qui prima che commentavano la questione perché mi sarei interessato pure a sapere un po' il punto di vista delle ragazze che sono qui in chat tipo ho visto momoca e c'eri te questa Natalia ho visto Eleonora e così via la morale è una cosa umana le leggi sono fatte dagli umani non vengono dal cielo bla 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 ne approfitto ancora per ringraziare Mordred 87 Anted AP che si sono iscritti tra l'altro Anted per il terzo mese di seguito fatemi vedere no ok queste sono le puntate a tenere per quando adesso si candiderà il sindaco di Vignola conferma allora mentre aspetto adesso che torna con tutti i caffè e ci mangiamo le ciambelline questi ultimi minuti scarsissimi io ne approfitto un pochettino per ricordarvi le live allora intanto c'è in questo momento live su multiplayer Matteo con Brasfamus tra l'altro alla fine della live prorò a fare il ride verso il canale dove sta Matteo a fare la live che può essere carino vi ricordo di nuovo che domani seguiremo la conferenza Apple oggi forse abbiamo anche già seguito non mi ricordo a che ora era se era nel pomeriggio no dovrebbe essere in pomeriggio seguiremo la live di reveal di Resident Evil dovrebbe essere alle 16 o alle 17 seguiremo giovedì e venerdì faremo i due soliti cortocircuiti super speciali sul Toyo Game Show ci saremo io e Francesco in collegamento a Ligi forse anche Alessio seguiremo il reveal se verrà fatto in streaming di Dead Stranding il reveal di Yakuza 7 se verrà fatto no questo verrà fatto di sicuro in streaming mi sembra ah no faremo la live mercoledì alle 14 seguite il sondaggio sul canale di Instagram il salottino underscore video perché sceglierete voi il gioco che faremo fra Wolf e Stanley Gears 5 e Blair fatemi vedere ho visto la nuova serie di HBO e euforia no ieri sera ho visto e me lo chiedevate ne approfitto per dirlo ieri sera ho riprovato a vedere dall'inizio Attack on Titan l'attacco dei giganti sono arrivato ho visto 5 o 6 puntate di fila devo essere sincero mi ero fermato le prime due puntate tutte e due le volte che l'ho provato a vedere non so perché mi aveva strannoiato devo dire che invece adesso mi ha strapreso a parte che tecnicamente è bellissimo ha una quantità di tempi morti tipicamente giapponesi su cui sto dopo aver visto Evangelion ormai i tempi morti per me sono un'altra roba perché Evangelion veramente è imbarazzante da questo punto di vista lo sto seguendo probabilmente me lo vedrò tutto a spizziche e bocconi la notte perché comunque quelle puntatine da 22 minuti 25 minuti mi piacciono sempre moltissimo tecnicamente è incredibile la birra com'è non ricordo se avete detto fa cagare ragazzi anche la birra allora devo essere sincero fa meno cagare dell'imperiale che aveva portato Alessio quella nella bottiglia nera sempre dell'idol è un po' più beverina questa qua rispetto a quella lì cioè questa da spiaggia non è tanto peggio della Peroni normalissima la imperiale faceva molto più cagare ovviamente non mi presenterei mai con questa roba se devo fare una cena con della buona pizza perché fa vomitare però nella normalità cioè ci può stare Pier guarderai la serie su Watchmen complesso ragazzi io sono stato un fan infinito del fumetto per me il fumetto di Alan Moore è uno dei più bei fumetti mai fatti sulla storia è nella top 5 dei fumetti più belli che io abbia mai letto a me il film ha fatto cagare a dei livelli inverosimili purtroppo mi ha annoiato cioè a me quando vai a vuoi trasportare Martina Pinocchio numero 1 perché già l'hai vista? porca trota è troppo da lontano super chiappe non vedo la faccia io sono uno più amante dei visi lo sai? non sono un grandissimo amante della procacità sono un grande amante dei visi e dei sederi al limite allora dicevo Watchmen purtroppo mi ha fatto cagare il film perché la voglia di riportare di Snyder come aveva fatto per 300 riportare esattamente il fumetto in film mentre su 300 era funzionava perfettamente perché 300 è una graphic novel di 20 pagine bellissima e quindi quel dinamismo lo può riportare Watchmen che è un'opera se non l'avete mai letta ragazzi comprate il fumetto perché non è neanche un fumetto cioè è veramente riduttivo chiamarlo fumetto graphic novel è veramente una storia nella storia bellissima veramente transmediale con estratti di giornale inventati con estratti da romanzi è veramente bellissimo cercare di riportare in un film uno a uno secondo me il risultato è una noia mortale a me ha fatto cagare purtroppo il film la serie vabbè interessante che è ambientata dopo magari butterò un occhio sulle prime due tre puntate sulla prima stagione ma diciamo che non è assolutamente una di quelle robe che aspetto aspetto di più Amazon e scusate il signore degli anelli su Amazon che voglio vedere che porcata tirano fuori lo leggerai il seguito di Watchmen a fumetti assolutamente no fatemi vedere ancora la stagione è orrenda in 12 puntate non c'è un gigante infatti lo guarderò finché mi regge purtroppo su Netflix ho visto vabbè ovviamente Castlevania ho visto quella merda dei Cavalieri dello Zodiaco davanti dei Cavalieri dello Zodiaco in cui veramente ho pianto sangue per quanto fosse brutta ho visto appunto come dicevo Evangelion ho visto One Punch Man ho iniziato a vedere Bucky mi sembra si chiama e mi ha fatto vomitare mi sono segnato Violet and Van Garden mi sono segnato Stains Gate che vorrei vedermi dopo a questo punto attacco dei giganti sapete degli altri bei consigli ragazzi non essere bei consigli io voglio vedere della roba tecnicamente bella e con ridotto al massimo i tempi in cui per dirsi una cosa si guardano 40 secondi io quella roba in cui c'è silenzio e due personaggini disegnati che si guardano per 40 secondi io smetto di guardare la serie ve lo dico proprio senza problemi quindi se non ha queste cose consigliatemi assolutamente assolutamente scusate fatemi vedere no non mi piacciono gli sportivi purtroppo io ho adorato Takeiro Inoue non per oddio come si chiama quello di basket famosissimo che ha fatto lui non per quello ovviamente per Vagabond secondo me Vagabond è un altro di quegli anime quei manga che andrebbero messi su proprio come si chiama quello di famosissimo di basket che ha fatto Inoue faccio pure un tv eh esatto slam dunk slam dunk purtroppo a me non piace lo sport per me Vagabond è un'altra di quelle robe tra l'altro c'ha i primi dieci numeri secondo me sono scritti scusate di chi è l'Ordo da una persona scritta l'Ordo macchiato schiuma il vetro da una persona toccata dal signore tra l'altro vorrei farvi presente a voi che denigrate sempre me che dico che mi fa cagare già pure tutto quanto non so se state notando la grandissima conoscenza di mangaka di roba anime eccetera eccetera tanto che mi dite sempre che ne parlo male Parasite lo devo vedere assolutamente lo devo vedere Peaky Blinders l'avevi visto te? biscotti all'arancia ah ringraziamo i ragazzi che ci hanno portato delle ciambelline dei taragli al vino bianco ah quindi anche da voi si chiamano taragli e non ciambelline proprio come ai castelli esatto ah fighissimo io mangerò assolutamente i taragli al cabernet da sola io assolutamente le le Atina inferiore io assolutamente perché c'è anche superiore esatto io mangerò sicuramente le ciambelline al vino invece proprio perché io potrei morire quando vado in fraschetta da tanto parlavo con mia moglie che assolutamente il prossimo weekend domenica se ci riesco la porto o a Genzano o a Riccia in qualche fraschetta che non la porto da una vita volete un dolcino? potremmo anche offrirvi un dolcino arancia o taralluccio alla pava buono allora ragazzi tu anche qua muori uguale allora io voglio rispondere a questa cosa poi chiudiamo allora dice Enoch togliete quella roba che per rivedere le live su Twitch bisogna essere abbonati allora ragazzi non so più come dirlo no la pigliate in cura ha deciso lui le opzioni sono due o appena finisce una live la cancello oppure che è molto comodo permette di disabilitare le live attualmente Twitch permette di disabilitare con questo modo qui in cui lo metti per gli abbonati a noi non ce ne frega un cazzo che vi abbonate non so più come dirla non me ne frega nulla che vi abbonate per vedere le live in differita ma vogliamo che le live vengano in differita vengono viste su YouTube Twitch lo usate per vedere le live YouTube lo usate per vedere gli on demand perché vogliamo vedere i commenti della gente perché su Twitch non ci sono i commenti e fa cagare che vedete le live e non scrivete nulla se non ne la fate ma anche se capita che scriviate ci viene scritto Marco ha scritto al minuto 32 46 allora quello d'arancio era molto buono questo ha il vino rosso e quell'altro è al vino bianco non si capisce al vino rosso c'era scritto esattamente cabernet locale ancora non l'hai messo il sondaggio del gioco sul saltino questo è molto più fragrante quello molto più non l'hai messo ancora la live ho messo tutto il sondaggio sul saltino no alla fine di questa roba qua alla fine lo mettiamo allora tatami galaxy è una bellissima perla non lo conosco ti sei mai visto un film di Paul Thomas Anderson titoli titoli è arrivato Alien 2017 Pierpa ti consiglio di vedere la prima stagione di True Detective ho visto tutte e tre le stagioni di True Detective amico mio va bene tutto tra l'altro penso di essere uno dei pochissimi nel mondo che è apprezzato anche la seconda stagione magari ha preso una macchina del tempo non lo sai lui da 5 anni fa ha preso la macchina del tempo per venire oggi di dirti mi fa una bellissima domanda Luca Rins che fraschetta consiglia da Ricci allora io da Ricci ai Gensano fraschetta vera e propria non ci vado da una vita non mi ricordo se è Ricci o Gensano quella che c'ha la salita la via tu frequenti siamo stati ultimamente c'ha la salite con tutte le fraschetterie io andavo all'ultima cioè alla fine della salita che non ricordo neanche minimamente il nome era molto buona ma vi parlo ragazzi di almeno una dozzina di anni fa interrompi vai Paul Thomas Anderson The Master visto bellissimo il petroliere visto capolavoro Magnolia visto bellissimo Boogie Nights non l'ho visto il filo nascosto capolavoro vizio di forma bellissimo con Jocky Phoenix bellissimo allora a Gensano che però non è una fraschetteria mi sembra sia Gensano mi dai altri sei biscotti come si chiama no Pietri c'ha un nome del Pietrini Pietri c'ha un nome stranissimo c'ha una trattoria un'osteria buonissima tipo Pietrini si chiama una roba del genere Pietrini e qualcuno sono due tipo due persone buonissima purtroppo non ricordo il nome veramente eccezionale fanno una coda la vaccinara eccellente fanno una specie di arrosto ripieno sotto al fuoco veramente grandissimo non mi ricordo come si chiama Gensano sono molto contento perché ero un po' in ansia che avessimo del pubblico di persone sconosciute che non ci conoscevano robe del genere però vedendo com'è svaccata sulla sedia con la birra che se ne sta sbattendo i coglioni alla grandissima guarda mi fai mi rendi la persona più felice del mondo la dovreste vedere quanto si sente a suo agio in questo mare di merda le fraschetterie giustamente per chi non è di Roma e dintorni non sa che si tratta le fraschetterie sono dei luoghi molto conviviali che si trovano nei castelli romani a Gensano ad Ariccia in primis ma pure a Marino qualche cosa si trova dove praticamente di solito sono dei locali piccoli di solito sono rettangolari lunghi e stretti con dei tavolini comunitari c'è un unico lungo tavolino con le panche dove tu ti siedi come capita in mezzo ad altra gente solitamente mangi hanno dei banconi all'ingresso con tutta roba da antipasto e sottoli tipo tapas Pietrino e Renata bravissima Pietrino e Renata è Gensano vero? Castel Gandolfo devi trovare ce ne sta uno famoso buono a Castel Gandolfo non ricordo come si chiama io purtroppo ho un problema che ce ne sta quello che ha vinto no quello là non mi piace quello lì che ha vinto quello di Alessandro Borghese non mi piace c'è una una fraschetteria che sta sulla parte alta prima che inizia a scendere giù per andare a Castel Gandolfo che vedi il castello dall'alto che è fatta su un triangolo proprio su una su un incrocetto è triangolare su un crocetto non ricordo come si chiama io purtroppo ho un problema con i nomi buonissima buonissima no pure a me non mi piace quello lì già lo conoscevo prima dei quattro ristoranti potremmo assumerle sono il top sono di servizio si sentono a loro agio potano un cazzo un pezzo di pizza e un bicchiere di birra allora se andate a Genzano assolutamente ma non è una fraschetteria quella è una trattoria vera e propria dicevo la fraschetteria quindi avete questi tavoli comunitari di solito premangiati i sottoli gli affettati a me trovano la fuga altri trovano i posti dove mangiare i posti dove mangiare ma qualche volta fanno anche qualche primo di solito se ci andate dopo le nove e mezza dieci cominciate a beccare la gente che suona le chitarre che bevono mi ci facevo delle serrate devastanti vi portano la romanella con vino frizzantino rosso romano dei castelli più romano con tonnellate di ciambelline e ci potrete rimanere fino a luna e poi vomitare per strada per quanto avete bevuto perché è un posto incredibile queste sono le fraschetterie in pochissime parole andate anche voi bellissimo ragazzi allora come ho sempre detto Roma i dintorni di Roma hanno una bellezza estetica culturale di posti di mangiare che sono paragonabili all'Emilia Romagna noi avevamo e la Toscana per andare in giro sui colli bolognesi abbiamo la Vespa 50 special che cos'hanno a Roma il 50 il 4 marce il ciao il si quello fatto il ciclomotore a noi si andava che è come il ciao non me lo ricordo si è uguale al ciao autentico me l'hanno rubato il ciao con i pedali che lo accendete a pedali andavamo col ciaoetto o col sietto sempre si andava però là ci andavamo con le macchine c'eravamo i ragazzi che avevano le prime macchine ci andavi con la macchina i primi incidenti mortali i primi incidenti mortali sì assolutamente confermo confermo che dicevo a livello culturale a livello vacanziere così via Roma e dintorni sono eccezionali il problema grave è vivere a Roma che fa cagare quando vivi a Roma il problema è quello lì e Alessio non si tinge più i capelli ci chiedono io non mi sono mai tinto i capelli no come non c'erano più io te li tingevi mai tinto i capelli si faceva anche le sopracciglia tutti i colori dell'arcobaleno e fatemi vedere ancora ah commenta al volissimo e chiudiamo giuro che chiudiamo commenta il leone d'oro a Joker non c'è niente da commentare se la Giulia commentalo come non c'è niente da commentare hai commentato la gara di quello sulla Ferrari che non c'è niente da commentare perché l'ho vista l'ho vista commenta Joker che vincerà non l'ho visto Joker commenta il caso esemplare di un cazzo di leone d'oro Venezia è il posto più snob con i giornalisti che fiscano a Netflix e Joker vince leone d'oro da questo punto di vista secondo me è anche perfettamente in linea in continuità con quello che è Venezia infatti per premiare quello che viene definito un cinecomic però non avendo il film non so fino a che punto se non proprio per lo spunto di Joker secondo me c'è totale continuità e se è stato il pretesto per tendere una mano ai decerebrati come te che guardano soltanto il game come il resto del mondo per dire oh ragazzi come il resto del mondo esistete anche voi ti sbaglio un segreto lo sai che non sono stato l'unico a aver visto Avengers Endgame ricordati che McDonald è come il resto del mondo ricordati che tutto il male è come il resto del mondo tutto ciò che è di massa è abbastanza e vuol dire che è semplice capisci perché se viene digerito dalla maggioranza delle persone vuol dire che anche quelle poco strutturate sono in grado di elaborarlo e digerirlo e me ne vanto pensa e così a priori secondo me è perfettamente in continuità ok grazie ne approfitto io vi do tutti questi consigli di roba di mangiare e così via vedo che non commentare per nulla quindi smetterò di darvi consigli su dove ho mangiato questa roba qui perché siete delle merda e prima chiedete e poi non commentate perché il suo sogno è avere una rubrica di questa roba qua sì confermo allora perché gli piace andare a mangiare gratis ai ristoranti stellati come faceva con il sapore lo sai bene sono uno che va a mangiare e paga sempre quindi non dire stronzate non dire cazzate no beh certo ci sarebbe sempre di più perché tu ogni pranzo sarebbe un ristorante stellato mi devi ancora portare mi devi ancora offrire la cena al posto qua a Terni che fanno il pesce galattico c'è una famosa scommessa in atto io non ti devo offrire niente io ti ci porto punto no hai detto che mi offrivi te e il proprietario del locale no 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 il proprietario la proprietaria del locale ha detto che ci teneva a farti cambiare idea sul fatto che si possa mangiare o meno un buon in un buon ristorante di pesce a Terni ma non ha parlato di soldi e io quando ti ho detto ti devo portare a Crunch vuol dire che fisicamente ti faccio strada verso il ristorante e ti faccio accomodare cioè quindi io dovrei pagare per mangiare il pesce a Terni alla romana sicuro proprio guarda è altissima la probabilità se mi prometti se mi prometti che sei guarda se è buono pago esatto facciamo così devi essere sincero sono sempre sincero se è buono pago io se hai pesce di Terni paghi te però è così eh così allora da oggi è dicono non so per quale motivo dice Meli che penso sia passato una qualche legge o qualcosa che da oggi è possibile defecare nel prato del vicino e dare la colpa al cane non può dare la colpa vuol dire che non è passata una legge non so bene come si inquadri questa informazione ci ha tenuto a dare quest'ultima informazione è gente molto disturbata è strano viene sempre riaffermata questa cosa allora sai di cosa sono molto contento sempre il salottino che la gente sono sempre i soliti 200 psicopatici ma oggi pochissimi ma per problemi di annuncio ma è sempre bello vedere che ci accompagnano fino alla fine allora l'ultima cosa dice tu Lanna Pierpa vieni a Salerno scegliete il posto che offro io invito anche un po' Alessio già sono stato a Salerno posto bellissimo un altro mi piaceva tantissimo non ricordo dove ho mangiato ma non ho mangiato bene non hai mangiato bene stranamente allora direi che ci siamo direi basta direi basta siamo andati anche molto lunghi quindi adesso proverò a fare il ride per andare sul canale di Multiplayer.it dove sta facendo la live Matteo a Blasphemous nel senso che noi sperchiamo non so come funziona prova a farlo me l'hanno chiesto chi te lo ha chiesto sia Jacopo che Matteo ride Multiplayer.it potremmo venderla questa cosa poi vi faccio chiedere un po' di soldi dopo chiedere un paio d'euro per ducaffè questa cosa qua e ragazzi il salottino vi do questa indiscrezione forse ma forse torna nel weekend o sabato e domenica se Umberto da lì da solo lo riesco a convincere a fare una live serale mentre a Tokyo cioè serale per lui quindi a pranzo per voi mentre a Tokyo dove voi gli chiedete cosa mangiare cioè vai in un ristorante e indicate voi cosa fargli ordinare dal menu ne stavamo discutendo quindi subissate il canale Instagram del salottino video di ti prego Umberto fai la live da Tokyo così si esalta e la fa altrimenti torna settimana prossima martedì ti piace questa? non accadrà mai ma perché c'è questo c'è questo vizio di voler costringere le persone a video a me piace tantissimo c'è del remote control degli esseri umani mi piace tantissimo che devono essere spersonalizzati e fai tutte le porcate che ti dicono da casa è veramente una prostituzione che umilia a te come individuo perché nemmeno sei in grado di produrre qualcosa di intellettualmente stimolante non li ascolti neanche sì perché è una stronzata Jacopo senti cosa dice che fa capire la differenza fra me e te io cultore di tutto quello che è massa ma con un grandissimo gusto e tu invece snob del cazzo assolutamente ha detto Jacopo sono d'accordo con Alessio per Endgame apparente sin a merda purtroppo l'intelligenza e poi dice però se Pierpa guarda anche film come Il Petroliere non è attaccabile pensa la mia cultura è super la tua perché io guardo tutto tu guardi solo film da snob di merda ragazzi ricordatevi la cosa Pierpaolo inciampa su film come Il Petroliere è che una sera dice Stranger Things c'era la P prima ha spinto Play per sbaglio e succede quella roba lì la P molto prima di Stranger Things con la Q no probabilmente ce ne esiste tanto prima pure la Henry c'è però lui inciampa in questa roba qua non c'è un progetto culturale dietro allora fatemi vedere basta hai detto tre ore fa che interrompevi grazie mando il ride statevi bene grazie agli ospiti naturalmente grazie a voi tutti in chat grazie anche qua dallo studio vediamo che succede a fare ride questo canale ha una chat solo per follower o abbonati ma secondo me devi prima interrompere la live non puoi fare il ride con la live attiva boh ho fatto qualcosa non lo so qualcosa l'ho fatto mi dice ma hai interrotto la live no fai un ride siamo ancora live non puoi fare il ride certo perché no perché devi interrompere la live altrimenti che senso ha se spengo il canale prova a fare ride fai un ride ma si interrompe se non la interrompi non la possiamo esportare non so che ho fatto adesso chiudo la interrompi sto chiudendo stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo